buongiorno 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 come grazie in un buon di signor gatto re sabbo per ricordarle che le si vuole bene per ringraziare per tutto quello che fa per noi ogni giorno buona visione per il periodo un po asterisco asterisco azie periodo un po oddio che cosa hai scritto buongiorno cold cosa cosa cazzo auguri però non ho capito dici che è un grazie e per questo periodo un po e ho capito un po però manca l'aggettivo comunque ange buon lunedì anche a lei grazie per i 21 mesi grazie a del song per i 50 buongiorno buongiorno gabrielone come andiamo come andiamo io ho bevuto un caffè amaro e io odio bere i caffè amari io non so come facciate cioè ho sono talmente pussi che ho smesso pure di berli solo con lo zucchero io li macchio anche i caffè alex un abbraccio anche a lei grazie mille amaro come lunedì mattina e così che ci piace ma oggi ci ci svegliamo in realtà già da ieri durante la mocca qualcuno me la scrive intanto o dragon ball quindi prima o poi lo giochiamo e voglio proprio vedere di che cazzo siete contenti l'avete voluto voi eh io l'avete voluto adesso lo proviamo così posso giudicarlo con e beh non l'hai giocato va bene adesso ce l'abbiamo bel mindset vero giusto un pelo eh preve prevenuto poi the longing finalmente giochiamo sto cazzo di europa che spero sia bono molto positivi le recensioni bene e il dlc di diablo che dovevamo fare venerdì ma eh mi hanno incasinato con timberborn e quindi lo facciamo oggi solo che c'è un altro problema col diablo e io spero che adesso si sveglino letteralmente le persone che mi devono risolvere il problema dopo queste otto ore di macchina da napoli a monza ieri posso dire che la vita è proprio brutta non mi sento di di darti torto per me sì sì svilarsi con la febbre 39 non è mai bello ma ciò vi consiglio di godermi la live in pace sì però riposa ti piuttosto no fatti un pisolo voglio dire mi casa 64 mesi grazie mille signori rinnovate rinnovate per il treno e qui c'è stato un mega drop solo che non mi ricordo che cazzo volevo fare mi era venuta una bella idea un tavolo buono che conosco il proprietario ma c'è non me la ricordo più non me la ricordo più vabbè rinnovate per il drop facciamo così facciamo così mo arrivano tante belle cose vedrete novità con la pizza con lino brava milky la facciamo domenica 20 alle 20 cioè magari partiamo per le 19 e le 20 adesso devo un attimino farmi un conto sulle pizze e capire come farle arrivare perché se le ordino tutte dall'applicazione non so se ci sono abbastanza racer qui li vediamo la spooky cuisine l'abbiamo raggiunto e verrà fatto quanto prima ciao fra adesso dove devo allora intanto sono riuscito a pagare l'affitto del coso e poi mo vediamo di fare tutto il resto che devono arrivare liquidi poi investiamo investiamo seriamente compriamo una ferrari una porsche una lamborghini altre macchine ma se tipo l'ha fatta in live la pizza con lino ho capito però il mio forno non è abbastanza performante ma poi non è la stessa cosa non è quello che l'idea che avevamo ovviamente Mario ovviamente il mio scopo è investire le persone buongiorno buongiorno fatevi investire subatevi e mettetevi in linea che così posso offrirmi volontaria? no investiamo lino solo i 3000 sub accetterebbe voi avete passato un bel weekend? avete letto dei leak? avete scoperto che Typhlusion è uno stupratore di bambine? così per iniziare la settimana per iniziare la settimana col verso giusto come chi? Typhlusion il pokemon di fuoco l'evoluzione di com'è che si chiama? di di quello piccolo con il naso lungo ormai chi non lo è? se non lo sai sei fuori moda di Sindaquil Sindaquil Quilava e Typhlusion e Typhlusion è il soggiogatore di bambine se non avete seguito i leak andateveli a recuperare su aspettate che mi ricordo come si chiama su twitter c'è CentroLeaks e lì hanno postato vedete tante lunghissime storie tra cui quella di Typhlusion che rapisce una bambina e poi dopo c'è suo padre che la rivuola indietro e lui combatte con il padre per tenersi la bambina perché ormai è diventata sua moglie e tutte storie di questo tipo che sono scritte da Game Freak poi sono non sono state pubblicate da Game Freak sono state liccate però comunque c'è qualcuno che se le pensate queste cose che mi sembra giusto parli di fanfiction erotiche ufficiali hai visto nel weekend Sinner ha vinto contro Djokovic e la SpaceX ha riacchiappato al volo un palazzo volante direi che posso essere soddisfatto decisamente sì ma vuoi mettere vuoi mettere con i leak eh adesso in realtà quello di Typhlusion è forse il meno peggio ce ne erano tanti altri hanno hanno leakato guarda lo schemino cioè chi se ne frega del tennis voglio dire guarda qui c'è l'intero schemino che ti spiega tutta l'alchimia delle divinità dei Pokémon a partire da Arceus ma veramente ve ne frega di due che giocano a tennis cioè vuoi mettere guarda qua guarda qua qui c'è Arceus poi Diag e Palkia Chiogre di qui Raiquaza e sotto c'è Grondon ma cosa ve ne fote del tennis dai hanno leakato questo molto più interessante si sapeva già nel mondo Pokémon da Ania lo so lo so che tu sei informato ah qua ci sono anche spoiler che non vi faccio vedere sì non ho avuto tempo di recuperare tutto stamattina mentre facevo palestra ogni tanto leggevo ma ah il complete plot di del prossimo Detective Pikachu è stato riccato molto bene molto bene a me a me frega cazzi di sport ma piuttosto che i Pokémon guardo una partita intera di tennis se la noia la noia ma non ho chiuso la porta era chiusa ma ha vibrato strano Joriva si ritorna a rinnovare dopo la pausa matrimonio e viaggio che bello si è divertito aspetta che partiamo nel frattempo si è divertito dove è stato di bello eh abbiamo flemma infatti infatti volevo fare questo perché lo sento ecco dopo un weekend chissà ecco come sta ha rotto il quarzo perfetto un cristallo è stato difficile estrarlo è molto bello lo appenderò sulle pareti di casa mia ok per chi si fosse perso le ultime live intanto seguite le live facce di merda secondo ogni mattina giocheremo un pochino a The Long King che è un gioco dove noi siamo questo bel personaggio che abbiamo rinominato flemma proprio perché siamo noi ogni mattina che aspetta il suo signore padrone che verrà risvegliato dopo 400 giorni attualmente mancano 392 giorni 23 ore 55 minuti nel frattempo man mano che si che passa il tempo nuove parti dell'antro vengono aperte e scoperte e si va avanti la gente ha dei lavori veri eh che dobbiamo dire l'anselotto che vadano a farli cosa cosa c'entra sono stato a Napoli ed ero prevenuto posso dire in onore di tutti i napoletani in chat una delle città più belle che abbia mai visto nel mondo e la gente splendida tutta sono stato anche in post che mi hanno consigliato di non andare bello eh io andrei a Napoli e tornerei 20 kg di più probabilmente l'ultimo che mi ha detto così si è uscito con una frase del tipo il campo da tennis è piccolo che fatica vuoi fare ma che vuol dire questa frase scusami in che senso che come come perché ma io comunque non stavo giudicando il guardare lo perché non infilati infilati non stavo giudicando il praticare lo sport mi sono trascinato fino a quella ricerca di qualcosa di prezioso ma ho trovato solo un'altra delusione ora ho per tre delusioni porca puttana e il guardare lo sport che è una noia terribile farli di sport è sempre bello farli sono qua grazie per i 70 mesi non ho mai giudicato praticare gli sport giudico il guardarli cioè capisco sì in realtà non è che giudico capisco perché guardiate di sport io mi rompo i coglioni comunque qui abbiamo visto un po' tutto io tornerei ah aspetta il ragno lo possiamo fai visita all'amico sì attenzione ecco qua disastro si è rotto tutto raccoglilo secondo me il ragno adesso ci tesse un'altra tela per salire di qua stai a vedere eccolo qua che figa sta roba allora aspetta che salvo il posto perfetto e tornerei a questo punto tornerei a questo punto qui voglio vedere se col piccone riesco a rompere la cosa dei soldi come guardare qualsiasi cosa alla fine poi se a uno non piace lo sport ci sta eh no certo certo no ma nessuno sport ma neanche gli sport io non riesco a guardare un cazzo cioè in realtà sono contento che gli sport vadano alle olimpiadi cioè che si grazie cold per i 5 sub ringraziate cold un uomo veramente sagace mi piace che ci sia un certo valore per quello che la gente fa perché c'è tanto impegno dietro poi c'è gente che dice eh vabbè ma gli sport non sono veri sport esattamente come gli scacchi anche gli scacchi sono sono sport glabro è glabro sei sei glabro io riesco a seguire solo al pallavolo sì ma per vedere il buco del culo delle ragazze non si fa così eh non si fa così basta eh sì c'è calvo perché cosa c'è perché glabro è sul corpo hai detto tu ha detto lui io seguo la formula 1 solo per guardare il culo delle ragazze è ora di fare basta con queste cose dorian grazie per i tre mesi a glabro è completamente senza peli ok ok guarda come passeggia lui nel frattempo in questi giorni ho seguito la regata di luna rossa ma mi piace guardare anche l'atletica o il pallone ma guardate quello che vi pare non è che dovete stare qui a farmi l'eleco non me frega cazzo veramente io seguo la ferma la mano per guardare il culo dei piloti ma ci sono ancora le ombrelline o era una roba che è stata tolta come tutte le robe che vengono tolte in questa società dove le donne vengono iper sessualizzate ma criticate per la loro sessualità casino ci sono i cani che reggono gli ombrellini i cagnolini ah le ombrelline sono solo nella moto gp è giustamente perché tengono l'ombrello ai piloti a chi re grazie per i 14 mesi guardo striscia l'audizia solo per il velino ma non erano già stati fatti i velini non c'è stato un periodo in cui c'erano i velini poi c'erano le velone si hanno messo un velino fisso credo che d'ora in poi saranno un uomo e una donna e poi i velieri belli guarderei striscia attenzione oh ragazzi il trenone rinnovatemi per il trenone il mio ex il mio ex lavorava in ferrario durante il covid invece delle signore in brilina c'erano le geline erano tutte vestite fighe immensa ricordate di mettere il gel igienizzate ma serviva serviva dici che è stato un caso che tutte quelle che hanno assunto erano delle belle ragazze o non so cioè le hanno scelte non credo neanche si possa scegliere in base all'aspetto è più scuro il gioco no assolutamente un cazzo non lo so magari durante il covid tutte le altre persone lavoravano da casa e loro non potevano che cazzo ne so io edo l'uomo di gomma cos'è edo l'uomo di gomma non si può scegliere in base all'aspetto ti farei vedere le avvocatessi con le quali lavoro sembrano tutte uscite da victoria secret ho capito però questo non significa niente a parte il fatto che in generale i belli i belli 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 cioè di entrambi i sessi hanno sempre un passo avanti cioè se tu sei di bell' aspetto hai comunque un un plus rispetto agli altri in ambito lavorativo guarda che gabriel mi manda edo e che cazzo è c'è un signore a petto nudo dipende che lavoro fai no in tutto in tutto assolutamente nel momento nel momento in cui edo era il velino ah ok per un programmatore smart beh si no ragazzi non al di là al di là della qualifica anzi a parità di qualifica giustamente a parità di qualifica se una persona è più di bell'aspetto e più probabile che venga assunta sia maschio che femmina eh naturalmente che è assolutamente random damiano cioè non lo so stiamo facendo un discorso serio ma che ne pensi di star di uballi tesoro mio cosa c'entra di bel aspetto intendi curato oppure proprio bello tutti e due poi è ovvio che se una persona è bella rispetto ai canoni che abbiamo come società è più avvantaggiata quindi se si cura ha anche più vantaggi rispetto a una persona non bella ma che si cura black eyes a volte ritorno nel lavoro all'università mi ciucciano la vita quando posso torno sempre a subare grazie mille ad esempio se io volessi diventare avvocato c'ho la panza mi guarderebbero un po' strano c'ho pure la schiena storta quindi sono tutto un po' inarcato male eccoci qua preferirebbero sicuramente uno che ha dei muscoli importanti ma non dico neanche importanti semplicemente uno che è un po' più in gambero vediamo se riusciamo a spaccare qui ah no usa piccone guarda tiè ah il tesoro si trova dietro uno strato di cristallo praticamente impenetrabile fine non mi serviva comunque a molto usa piccone potrei provare a infrangere il vetro con il piccone sembra senza dubbio una pessima idea cosa facciamo proviamo lo stesso non lo so cosa succede volete che proviamo è motivo per cui in cui una paesina vogliono foto nel curriculum per evitare pregiudizie preferenze estetiche si quello si associa anche al problema raziale che è un altro problema dai proviamo proviamo no cazzo e adesso merda che inculata andiamo qua vediamo se è cresciuto il muschio non mi ricordo porca troia ci serviva il piccone non credo si possa morire zanatta vetri non credo non che lo possa morire ragazzi verrà rovinata no c'erano altri picconi in giro però ecco perché c'erano più picconi dobre one kenobi nonostante si segua sempre meno causa lavori si continua questa porta è chiusa scusa si continua a sostenerla subbando ogni mese complimenti per quello che fai grazie mille grazie mille ho tirato no manco per la rata dell'età eh cazzo era importante il piccone scusate questa porta non credo di averla già vista è sempre stata qui io sto impazzendo per davvero la porta è chiusa che sorpresa forse troverò una chiave da qualche parte per 4 delusione porca puttana quindi compaiono anche porte dovremmo prenderci una giornata dove giochiamo solo a questo qui c'è uno scivolo guardiamo solitario sto pattugliando le strade vuote sì bravo porca merda da quant'è che ci stiamo giocando da una settimana sola vero perché ce ne servono due per per il muschio se è ora di questo pesantino no vabbè perché chiacchieriamo cioè se ci pensi alla fine questo qui è un just chatting giusto un po' più elaborato ma alla fine della fiera questo è cosa c'è qui maratona alcolica va bene ogni volta che c'è una delusione è uno sciottino pezzo di pietra focaia uh possiamo accendere il fuoco adesso una sconfitta no ora cinque delusioni oh allora facciamo così visto che è già passata una mezz'ora rimandiamolo a casa e noi andiamo su Europa perché voglio giocare Europa si delude per ogni cosa eh ho capito vorrei vedere te guardate la delusione il numero di sciottini da fare ah dici che adesso siamo a cinque ne bevi cinque poi quando facciamo sei ne devi bere sei capito però muori così adesso comincia il giochino che non sta fermo il secondo tra è buono l'audio mi sembra ancora altino guardate la delusione guardate la delusione dai no effetti carta ah l'intensità degli effetti carta che ne so io tra l'altro fra tre giorni esce anche il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves volete dare ve lo faccio vedere vi interessa il trailer perché è molto caruccio magari lo guardiamo mangiando dai barbacciaio grazie per 29 mesi hanno messo lo stealth Andrea buongiorno che ragazzo sono sette come il re di Roma Romolo prova a immaginare cosa si prova ad addormentarsi senza svegliarsi mai adesso puoi immaginare cosa si prova a svegliarsi senza essere mai andato a dormire è casino credo di sì credo di sì il fan dello studio Ghibli tireranno fuori il cazzo probabilmente adesso mio son io ero nascosto ma credo che ho stato a casa per Europa tutta la vita che ossia tipo Pinocchio io scrivo questo da l'isola la vista da qui è come niente che ho visto il bambino fa un'unità aspetta io parlo dell'ambiente non il bambino è chiaramente lo stile studio Ghibli e il mondo non può essere che un pinocchio non è ambientato in Francia veniva come che la cazza sia prelenderizzata perché fa schifo al cazzo Ah, più o meno. Grazie per dirmi i tasti. Aiuto. Oddio. Posso scorreggiare. Quindi non vedete dello studio Ghibli qua. Ok. Sono matto, scusatemi. La camera fissa? No, non credo. Anche perché mi sta dando i tasti. Uh, vola. È mago. Ok. Mi aspettavo qualcosina di più graficamente, sapete? O forse è l'effetto carta che ci sta rovinando la vita. Aspettate. Togliamo l'effetto carta, vediamo. Pare identico. Mettiamola al massimo. Che cazzo è poi l'effetto carta? Ah, sì, sì, sì. Lo vedo il filtrino. Ok. Ha un filtro cartoso. Che in realtà maschera anche un pochino la bruttezza grafica. Quindi lo lascerei anche. Che in realtà è il decreto. Che in realtà è passata. Molto carino. Ma comunque non c'entra un cazzo Quello studio Ghibli Non lo ricordo minimamente Effettivamente Sono un piccolo gara, è vero? Che gioco è? Che devi fare? Eh tesoro, guarda la live Lo scopri Ma vediamo X per interagire E pensami Addirittura Adam Lo zi Non ho voglia per niente di reggere Dice di andarlo a trovare lì in alto Ma sarà morto tanto E space spinocchia? Un po' sì Non si può prendere Quella roba lì Ok Vediamo se posso andare Ah non mi fa fare il super salto qua Ok Volevo andare sul tetto Questa c'è qua Uh Ok Una tartaruga Ciao Che mira un po' di merda Però va bene Oh Posso ucciderla Non ho un attacco Mi son From time to time I ask myself Is it possible To miss something You've never known Let me rephrase Is it possible To be homesick For a place You've never been I was born on earth But I think I have been homesick For Europa My whole life I'm writing this From the island The view from up here Is like nothing else I've seen By the time you read this I'll be gone And the world Will look very different Than how it does now But the island Should still be there They built this thing To last Come to the island If you ever get lonely Come here And think of me Si Delughiati Un pochino Vero Voce Pah 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 Un foglietto B per leggere No, allora, sono contento che me l'abbia adoppiato, però non serviva, non serviva, ecco. Grazie Ciccio. Che schifo, l'aria sa di acqua e l'acqua sa di vino. Ha fatto col tutorial? Ho capito. Sotto i 30? Maronne. E' per Nintendo? No. PC, sto giocando da PC, poi credo sia uscito un po' dappertutto. Non lo so. Forse è un po' alto tutto, aspetta che abbasso un po'. Così. PC e Switch. Mi sembra ancora altissimo, cioè non riesco a capire, vi giuro. Cioè, com'è possibile che ultimamente i giochi sparino così in alto con l'audio? Tutto è un mixaggio a cazzo. Poi sì, ho capito, però mi uccide il cervello. Ma che bello che è comunque. Ehm, ho dimenticato di quella roba lì. Ehm, ho dimenticato di quella roba lì. No, no, ottimizzato è ottimizzato, per l'amor di Dio. Non è bellissimo. Non voglio leggere. Non voglio leggere. Quindi la Terra è esplosa. Siamo pure un po' Game Freak. Mi piacerebbe a Game Freak fare roba del genere. No, è indietro graficamente. Però non così indietro. Ok. Anche le cazze di Game Freak. Sì, sì, no. Allora, per carità, non è sicuramente molto bello da vedere. Per un gioco uscito quest'anno... Soprattutto in Shell Shading avrei preferito... Cioè, mi sarei aspettato qualcosa di meglio, più che preferito. Però Game Freak è tutto su un altro pianeta. Oddio, da qui a Cucun, però... Ma siete veramente un po' prevenuti stamattina, posso dire? Cioè, sì, sì... Un attimo, abbiamo giocato dieci minuti, ragazzi. Sembra che debba essere il gioco più brutto della vostra vita. Con calma. Diamogli un secondo. Perché ho giocato la demo e l'ho trovato orrendo. Io ti ricordo che le demo... Se non sono... Sono zero. Infatti, Lies of P, la demo, era una merda rispetto al gioco. Poi, magari è vero, ma non ti puoi basare sulla demo. Però è sorrendo, no. Quindi, andiamo più a... Questo stile è un po' acquarelloso. Non è mica Dragon Ball. Ce l'ho, eh. Adesso giochiamo anche Dragon Ball. Voglio proprio vedere. Salta quindi premix per calpestare. Cosa? Così? Oh! Ficco. Ma cosa cambia, da? Ah, lo fa più grosso. No, ma mi pare uguale. No, che gioco sia stato meglio di Lies of P, dici? No, però in realtà Lies of P è partito benissimo, eh. Avvisa la banca perché, come hanno detto, sulla P Dragon Ball ti renderà milionario. Cosa? Da Fandashai Shading fatto bene, Spark in Zero mi fa schifino. Però, allora, quello è un altro discorso. Oh, gli ho dato amore. Al culo o alla faccia? Que... Non lo so. Aiuto. Il problema dei giochi degli anime, ragazzi, che sono tutti uguali. Tutti uguali. Poi credo che le persone non abbiano giocato così tanti giochi o di Dragon Ball in generale o presi dagli anime perché desiderare quella roba lì, secondo me, è veramente roba vecchia. Uh. Perché voi sapete, io sono un grandissimo fan di Naruto. Però non funziona adesso, come mai? Prima andava. Ah, lo ciuccio. Ah, mi si ricarica un tot. Eccolo lì. Io Naruto, tubo Naruto, mi sono roto i coglioni. Perché? Perché è la solita roba. Bratzuai, grazie per 53 mesi. Mato Fighters nella campagna. Eh, il problema di Fighters per me, solo per me, è che non ti puoi trasformare perché è la cosa figa di Dragon Ball. Però è un gioco che aumenta la capacità massima del ciucciamento. Ah, ok. Però è un gioco pensato per il competitivo. Sto parlando di giochi sugli anime. Ma non lo ciuccia comune. C'è un gioco che mi sembra per Game Boy dove faccio i combattimenti, gestiti con le carte. Era terrificante, ma era meglio che c'era all'epoca. Non per Game Boy Color. Era Game Boy, Game Boy. Me lo ricordo. Me lo ricordo. Era in bianco e nero. Posso andare in alto? Però non ci arrivo lì. Ok. Vediamo. Ok. Qui dentro. Dai, eh. E cosa serve? Scusa, ma potevo entrare dalla porta. A cosa è servito fare quel lavoro lì? Non serviva. Che poi sono tante Genkidama queste. No, no, ma infatti Den è proprio da fan di Dragon Ball. Mi piace trasformarmi mentre combatto. La trovo una strategia particolare. Cioè, preferisco trasformarmi durante Dragon Ball piuttosto che giocare Pokémon e trasformare il Pokémon per la durata della battaglia. Ok. Ok. Ci sono robe. Vado a vedere. Aiuto. L'ho preso? L'ho preso? Sì. Ok. Che peccato. È tutto chiuso qua. Beh. Vediamo. mi sa che è prettamente narrativo mi sa che il gameplay sarà ridotto all'osso title drop è tutto molto carino ragazzi ammetto che mi aspettavo qualcosina di più lato gameplay però vediamo andando avanti perché per adesso non so se sia solo inizio narrativo ma ci sta semplicemente dando pagine di diario bene legge che cos'è? devo far così? e che ne so? lo seguo? mi si è attaccato? ok mi si è attaccato e che mi frega portiamolo qui dove c'è altro blu è una pagina no? è un gioco un po' all'aico l'azione non sembra interessante a parte super motion mi stanno a qualcosa che voglio sapere non lo so devi partire col set in giù cioè capisco quello che dici ok ok quindi sono i giardinieri quelli bestia che paura eh non li dovevo mettere qua? no di qua eh lo sta spiegando giuriva cioè purtroppo stiamo proprio trovando solo lore sì che ci sono le due sembra che ci sono le due di crise ecco io paura c'è l'argo che c'è Eh, Ludy Ho lo stesso identico dubbio Però temo che il gioco sia questo, sai? Cioè, è molto carino, ma Deve proprio venirti voglia di giocarci Che poi non è neanche open, mi sa Perché vedi, dove c'è la nebbia, secondo me, proprio finisce Sono delle piccole open map Sto chiamando il commercialista, ma porca di una puttana Arrivo, scusate Sto chiamando il commercialista, ma porca di una puttana Sto chiamando il commercialista, ma porca di una puttana Sto chiamando il commercialista, ma per un'esp Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sono irritabile. Cosa c'è qui di bello? Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Oh, è molto rilassante. Ma è tutto molto rilassante. È tutto molto bello, tranquillo. Andiamo, l'ho chiusa qua. Era identico, l'ho trovato noioso. Sì, va bene, ci sta. Però tu me l'hai venduto come una merda. Adesso una merda è qualcos'altro. Poiché sia noioso. Siamo d'accordo. Cioè, più che noioso, non è il nostro, probabilmente. E mi piacerebbe avere degli spunti di gameplay in più. Tutto qua. Poi non so se sia lento il gioco, o se sia proprio l'inizio terribile. Anche io, Gabriel. Però vedi, già adesso c'è un... Un vibe di gameplay differente. Che non so a cosa serve, ma... C'è. Uh, che figlio. Sì, è molto cinematografico, vedi? Questo stile X volante. No, no, è tutto molto fluido. È tutto molto caruccio. Che devo fa? Fa molto flower, bravo. Sì, sono delle mini mappe dove raccogli due cagatine, vai avanti e ti dà la lore. Brutto no, però... Non è sicuramente il titolo che mi aspettavo di giocare, ammetto. Questi sono i cristalli, tra l'altro, di flemma. Vediamo adesso se c'è un enigmino più interessante. Aspettate che chiudo la finestra del bagno che fa freschino adesso. Ah, la gamba! Ho anche una fame miserabile. Solo che non ho niente da mangiare, ma vi giuro che ho una fame... Veramente, porca di una puttana, che fame! Di quelle che fa... Oh! La lore non mi intriga. No, vabbè, ci sta. Però il tuo gusto va benissimo, eh. Cioè, per adesso non sto vedendo difetti del gioco, a parte il lato tecnico che è un po' una merda. Perché non mi sembra affatto male per adesso. Semplicemente è una roba che non me ne frega un cazzo. Che ci sta. Ah, carino! Certo, potrei dirmelo prima, visto che ho trovato mille altri animali, ma ok. Oh, che sesso ne frone. Ferro, grazie per i 50 mesi! Sì. Come dice Gabriel Proprio alla flower Alla journey Un'avventura molto carina Che ti racconta la storia di un mondo Caduto Il gameplay comunque non è malaccio A livello c'è proprio di comandi Mi frega un cazzo Purtroppo Ah mi ha dato uno di quei cose Fammi la pelle sono calorie Che schifo Perché non sai dove sono state le mie mani Sky figli della luce Eh sì che dà gli stessi di journey Flower e Cosa come si chiama Abzu E Basta Però è lo stile il punto Non Non cosa Cioè uguale So spiegarmi Mi piace molto disegnare queste cose Ha una bella musica Un bel setting Non fa per noi Non per me almeno Di qua che cazzo c'è Permettimi Aspettavo qualcosa di un po' più Ok Cristalle di merda Avete già preso sonno ragazzi Il gioco non aiuta Dai dragon ball Andiamo a giocare il goti E che cosa dicono Gabriel Voglio sapere Silent Hill Silent Hill Vorrei Allora Adesso purtroppo abbiamo anche il DLC di Diablo Che giochiamo dopo mezzogiorno E ho voglia di giocarci Ho riavviato l'Europa Ho sbagliato Ho fatto questo errore Ripetono le cose che sentono i loro politici preferiti Bellissimo Che gioco è Bloodless? Soporifero Soporifero Carino ma fa addormentare Capisco Capisco E che purtroppo Ho fatto palestra Ma non ho fatto colazione E quindi sto Morendo di fame Stanno mitigando se dare la colpa agli immigrati O all'Europa Perché le cose vanno male Non hanno pensato all'Italia Uh Pip Un bel gioco per l'anniversario Grazie per il tuo lavoro come sempre Grazie mille Sono Goku e Vegeta Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Scesa Non appesantire tutto Però non c'erano mai nel manga quelle cose lì Grazie mille 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 scusami se tengo premuto B lui mi mina non ho mica capito ma quanto scatta mo non ho capito attiva lo schianto dirompete tenendo premuto il comando ok ciao la dobbiamo assolutamente vedere se il gothic e tutti dicono per adesso mi ha fatto abbastanza cagare però ho fatto solo il tutorial bello il pre render con i pixel si stavi parlando ho trovato un pochino complicato io non ho mica capito basta tenere premuto B vabbè schippiamo oh guarda come pulisce gli occhi adesso si e vai accedi a super allenamento nella scheda battaglia si vabbè io oh 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 Sì, vediamo! Sì, sono stato buono? Cosa? Che cazzo è Super Shadow? E' Sharon Super Saiyan? E' di Super giustamente Mi fa ridere che c'ha i muscoli Come quello di C'ha più muscoli come Polunga Io tesoro sto capendo un cazzo Che menu è? Come si gioca? Episodio battaglia Cosa vuol dire? Goku Sì Ok Questa è la modalità storia? Ho la storia Perfetto Grazie Via Entrato dentro cerebro dell'X-Man Questo succede Rot Ok da Radish Quindi parte proprio da Da Z Quando arriva Radish Che rapisce Gohan Ma perché scatta così? E' terribile Oh mamma mia Non No Ah 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 Ma Sa jacken Ma Questa è la mia Cosa Facciamolo Non Come Vara slancio del cazzo comunque è vero non si capisce una madonna cioè io sto premendo il x al infinito potenziamento a te non scatta così ma non è ah la kamehameha ah così si fa ok aspetta eh avrei dovuto pressarci come una volta non ci ho preso? non ho visto ho vinto? ho vinto? eh cold più che ridondante a me sta roba fa vomitare c'è che modo è di raccontare la storia? scusami allora non ho mai non ho mai giocato a dragon ball arrivo inizio a giocarci e chi cazzo sono queste persone? cosa sta succedendo? cioè chi cazzo è Radish? chi è sto bambino? è importante veramente grazie Master Ghost per rispondere a una domanda di cui sapevo io la risposta nessun gioco di un AP ti fa il risulto della stessa AP? tutti Gabriel tutti c'è un minimo di incipit cioè abbiamo fatto partire la partita e c'era Radish ah il tuo sangue Saiyan è pronto a ribollire e ci siamo menati ma lo so che è il fratello di Goku il problema non è quello se ti devi recuperare la storia del gioco sei anche un po' stronzo ragazzi ma che cazzo dite? allora perché mettere la trama? scusatemi perché mettere la trama se tanto se non la conosci già tanto vale non giocarlo perché metterla? boh lo sto giocando perché così posso dire che l'ho giocato perché altrimenti non si può dovrei partire quando Goku è un bambino simile quello sarebbe molto bello ma mettiamo partire da Z c'è un minimo di capi c'è chi cazzo ti buttano così e basta attenzione pre-render Goku non può nulla contro la straordinaria forza di Radish che rapisce Gohan senza battere ciglio ancora non si sa chi è Radish però va bene Goku c'è un'altra visita in aspetta ma cosa sto vedendo? piccolo? come? come è qui? sì 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 Eh, gli tocca collaborare La triste verità è che insieme abbiamo più possibilità È arrivato un tizio verde che noi non sappiamo chi cazzo è Che si chiama Piccolo Che purtroppo chiede il nostro aiuto Però non si sa della rivalità tra i due Vabbè Diamolo per scontato Ma guarda, sono tutti così C'è Bulma completamente frizzata Però si muovono i capelli Z è seguito di Dragon Ball Se faccio un gioco sul due qualcosa non ti spiego l'uno Cosa c'entra? Chiaraz, grazie per i 28 mesi Buongiorno Non mi spieghi l'uno Però non mi sta spiegando un cazzo Cioè non Siamo partiti veramente dal nulla Cioè, random Boh Se devi far conoscere Dragon Ball a tuo figlio Guardi l'anime Ma veramente? Cioè, combatti da solo Collabora con Piccolo Le scelte morali Ma davvero stiamo giustificando quello che stiamo vedendo a schermo? Coraggio O giochi Kakarot Che è un bel gioco Ok 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 Si Qual'è realistica l'erba? Ok Ok Vai Kakarot Ok A parte il fatto che Uno che mi dice nel cartone Leggetevi i puttana merda di manga Ok? E non guardatevi il cartone Te lo dicono che è Radish Guarda lo sta dicendo anche adesso Glielo dice proprio Grazie N155 per i 32 mesi Mi incarico così posso fargli La onda energetica Mi ha fatto per il mio rosso che figo Sì, c'è quello che c'è C'è quello che c'è C'è quello che c'è Ma che vuole potenziamenti? Ehi! 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 Che scemo Ma scatta veramente tanto Comunque aspetta un attimo Vabbè Spiegazione dei comandi Ah Vedi un po' Fammi il perri Dimmi un attimo Attacco Salto Combo Parata 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 Attacco di rompente Basso Poi perde l'equilibrio Avversario Ok Basta far così Togli il perri assistito E dov'è? Dettagli battaglia? No E non so come si fa Come attenti Sono molto figlio Soprattutto quando capisci Come si gioca Bacca Questa è veramente La solita son Falino Ti voglio bene Mabu Dovresti poi riuscire Ma perché devo uscire? Cosa hai fatto? Ah Sei proprio un malvagio Radi Super Kamehameha Sei da tutt'altra parte Rispetto a lui Per sorpartire In un super 6 In che senso? Non ho capito Ma no Lino Boh Cioè Sembra veramente La solita roba Non so Cazzo è successo? Ho vinto? Non ho fatto niente Non ho fatto niente Sì Passo c'è Goku che lo blocca E come mai è ridotto così male adesso? Sì, non lo so non lo resiste, se lo batteva in tempo, sono diversi blocami in Wattif, ah, non lo riesco, non lo riesco non lo riesco, 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 non lo riesco questo però l'hanno detto è sempre stato canone dell'anima speciale, la mossa di piccolo in italiano infatti è incredibile che non si chiami l'onda energetica l'onda energetica nel manga era cannone demoniaco della luce omicidia trapassante, riempiva un po' la bocca no, nei videogiochi è sempre stato cannone dell'anima speciale di questo ne sono assolutamente certo Namu, 30 mesi, grazie mille dopo essere morto dallo scontro contro Radish, Godu viene trasportato nell'aldilà con l'intero corpo da dio perché si alleni sul pianeta di Recaio trascorso un anno i due Saiyar raggiungono la terra Goku termina il suo addestramento sul pianeta di Recaio ragazzi, ma porca puttana va bene sì, il Supremo è dio, Cold è stato tradotto nel Supremo solamente da Mediaset perché era brutto dire dio è sempre stato dio vuole coi serpentone, cazzo sì uno dei momenti più belli secondo me, quelli va bene la scena di Yanko perché a me me fa ridere non tolto mezza storia, ma va scusami se non hai mai letto il manga visto gli anime, i film, i filler che cazzo lo giochi questo gioco, scemo cazzo, eh bello quanto inutile però, eh, perché quello che stiamo vedendo adesso invece è Taten eh, sta bollendo come l'acqua cosa sta succedendo? perché liquido? che cazzo ma prima avevo la super kamehameha perché adesso la mini genkidama qua tra ma non vuol dire potenziamento lì con rt la via che serve cosa cambia dalla b alla rb per il terri qua no lo so che l'ha imparato da kaiu però me l'ha cambiato perché anche deve la barra vertica la sinistra 3 per la svela genkidama perché usa versioni diverse di occhi che cazzo è la barra sinistra 3 che noi sai a ginnato c'io noi skin ed è detto tutto laura è una barra con il numero non ci ho fatto caso sai com'è il tutorial mi ha detto premix per prendere a pugni brelt grazie per 51 mesi vegeta si infuria nel vedere nappa venire umiliato da goku incapace di controllare la sua ira uccide il suo compagno off screen goku percepisce il pericolo e ordina go e le kri di immediatamente ritornare a kame house dopodichè su richiesta di kri nin decide di cambiare il campo di battaglia andiamo dove non c'è nessuno non c'è nessuno questo è vero vero garantito che sia un po' di male dovrebbe essere una donna e è vero e così sono più chi sa chi 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 na g sin questo attraverso chi Ricordiamoci che Goku in realtà è Superman Perché i suoi genitori sapevano Che Freezer stava per spaccargli tutto il pianeta Allora loro lo hanno messo dentro La capsula e l'hanno spedito Sulla terra per salvargli la vita Letteralmente Superman E la cosa bella E' che la La trama di perché Goku viene spedito sulla terra E' stata scritta dopo Potevano C'è Toriyama un minimo Potevi far finta Perché l'ha scritto nel manga Oddio in quale manga è che l'aveva scritta La storia di Goku Sai che non me la ricordo più Perché non era nel manga classico Ma cosa c'entra? Minus No no ma è stata scritta dopo Dopo la conclusione di Zeta La storia di Goku No non era nel film Forse era in Nekomajin No non era Nekomajin Era una storia in cui si parlava anche della sorella di Bulma Ah aspetta aspetta adesso mi viene E' come si chiama il Era Iaco Era Iaco In Iaco lo raccontavano Il poliziotto spaziale Era Iaco che ti raccontava tutta la storia di Goku E ti parlava anche della sorella di Bulma No all'inizio doveva essere quello Gabriel Però la storia di Goku L'hanno raccontata appunto in Iaco Che è uscito nel 2014 In un volume unico E parlava di Della storia del pianeta Vegeta Della madre di Goku E Cosa E c'era anche Ah no ma aveva ragione Ciccio Che era Iminus che era incluso in Iaco Sì Sto leggendo adesso Chiedo scusa Ma Minus non è quello nuovo che è uscito adesso Quello è Daima Ok chiedo scusa Ho proprio scambiato io le cose Ho detto una stronzata Lo dicono anche in una puntata di Bardak No Nella storia originale di Dragon Ball Goku viene spedito sulla Terra Come bimbo soldato Cioè nell'originale viene raccontata questa cosa qua Dove spediscono Goku sulla Terra Per distruggere Per conquistarla Semplicemente Quindi spedivano i bambini Che menavano la gente Però Hanno cambiato la cosa In Iaco appunto In Dragon Ball Minus Dove raccontavano che Sì facevano così Ma Goku è stato spedito sulla Terra Dai suoi genitori Per salvarlo Dalla distruzione Del pianeta Vegeta Da parte di Freezer Aveva Eh sì esatto Aveva il livello di combattimento Troppo basso Perché era una pippa No non va come previsto Perché Goku perde la coda È proprio un altro discorso Il motivo per cui l'hanno mandato È proprio Superman Nel film di Broly c'è tutto Ma qual è l'ultimo? Non l'ho visto l'ultimo Sì nel fumetto diceva Che pur bambino e pippa Sulla Terra comunque avrebbe Fatto tutto quanto Ok l'ultimo Non l'ho visto Comunque leggetevi manga Leggetevi manga Io non so più cosa dirvi Non so più cosa dirvi Guardatevi i cartoni animati Banane mi ha detto eh Ah adesso l'ho visto il numero Cioè lui praticamente ha una Una barretta lì Che va su Quindi quella lì adesso La posso usare per fare il Kaioken Bello Ma per fare la parata Basta tenere il premuto B Ma che strontata è? Che modo di merda è di fare un Perry? Tieni il premuto B Gli fa la parata Ma che ma go Vabbè Stavo facendo delle prove Adesso lo vedi Ma che stronzo Che è successo? Ma che vuol dire sto potenzione Ma che vuol dire sto potenzione Maga ma go Questo è successo? Questo è successo Non è però Vegeta Posso dire Figa Ciao Eli Sì Sì però io non voglio fare l'allenamento Lino Cioè Mi hanno messo la modalità trama Senza il tutorial Ma anche vaffanculo Voglio dire A cosa è servito? Ma che vuol dire tra i nicki to me la lento a chiù moro toman o chiara chile nina a già lì la cio chiesa già lì Che è successo? Sono morto Wow Eh, dovevo perdere? No Ah Infatti Su te che nella storia ti fanno i tutorial? Sì Tutti picchia duro ti fanno i tutorial Che cazzo dici di no, Gabriel? Sì Tutti picchia duro Ho giocato l'ultimo Mortal Kombat Infatti il tutorial comunque c'era Non con tutte le mosse di ogni singolo personaggio Ma ti spiegava tutto quanto C'è di sicuro non ti lasciava meccaniche a metà così La roba base Ho capito Lino Però c'è È importante sapere che cosa cazzo sto vedendo nell'HUD C'è Io ho un 4 sotto il nome Che cazzo vuol dire? Adesso va ben tutto Ma è una porcheria questa Comunque veramente spammone Vedete Io aggiungo E' una porcheria questa E' una porcheria questa Ma è una porcheria questa Ma è istantanea Per fargli il Parris Volevo vedere se dovevo premere più forte di lui Come nei giochi vecchi Con le due onde che si colpiscono Dai 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 fammela Sta lì ad aspettare Veramente uno spammone Che schifo Magamago Si sta capendo un cazzo Non ho visto niente Guarda Ho visto troppo Me la fai la chiamè Quanto ci vuole Ma vaffanculo Lui me l'ha parata Stando a fe Ma l'esplosione solare Che cazzo è Il colpo del sole di coso Anche a terra Morto? Si Ma Goku non lo fa il colpo del sole Quello di Krini Questo qua Quello lì Non è I testi sono uguali Non lo so Io sto premendo a cazzo Tanto è facile Non serve fare niente Se mori subito lancia comunque la KMMA Ma meno forte immagino Anche Goku lo faceva? Sai che non me lo ricordo Quando lo fa? Jirobei comunque Personaggio Goti Quello che salva la situazione in Dragon Ball Che taglia la coda a Goku No la taglia a Vegeta La taglia Aspetta Si la taglia Chi la tagliava a Goku? Tensing la tagliava a Goku Eh devo rileggere me lo cazzo Non ricordo niente Grazie Mattber per i 33 mesi Non ironicamente Jirobei È il personaggio forte e meta Nell'Online Questa è una roba fighissima Che fanno una volta E mai più Perché Tensing? Ho detto io Tensing No scusami Non era Yanko Che mi tira la coda Qualcuno più? Dopo non la coda nessuno In realtà mi pare che lo dicano Che se la continuano a togliere Nel manga si scrive Tensing E che non li so dire Tensing E non li so pronunciare Buon divertimento Va bene Buon divertimento Surti cuglioni Ma poi sempre spammole le mani Eh stia Se fai discorso Ho capito io Il tesoro Veramente spammole Però Dove sei andato? Franco No Aia Dai che c'era il modello Fermo Ma praticamente Ucciso No Non le hanno mollato addosso Che palle Oh Ah la cazzo inuguale ovviamente Riprova E Ah la cazzo inuguale ovviamente Cosa devo fare? Ma che ne so, che è sta roba? Ma che roba era? Ma che non ho capito un cazzo Vabbè No, mi ha detto che io Che mi ha detto, ha sbagliato Quanto cazzo spamma sto stronzo Quanto cazzo Ah è Taioken mi ha ucciso Oh bello comunque, mi sta facendo un casino questo gioco di Dragon Ball Perché non sai giocare? Eh lo so Per forza Tutto l'ora mi ha spiegato un cazzo No Chiara, grazie per i 27 mesi No, non sono ironico È il gioco più bello che abbiamo mai giocato quest'anno Fortuna che hanno ascoltato i fan Perché si sentiva il bisogno di un gioco del genere Ah non li posso fare il Perry magico Non si sentiva Non si sentiva Ma che è stato non sei il target delle scuole medie è vero difficile è il The Ring il The Ring è una cagata per forza sarà più difficile a parte alcuni boss e il The Ring è comunque facilissimo la cosa che mi fa cacare è il continuo stop attacco stop attacco si no lui spamma però il problema è che ogni 3 secondi c'è il freeze è veramente roba super vecchia beh ci credo lì non funziona il salta no non funziona lo skip scusate devo rifare tutto madonna cosa sto vedendo si vabbè non posso c'è devo rifare il cocco contro il video bene come si gioca? ah devo tenere premuto mister Matt comprati una play 4 mi piace mi piace mi piace Sì! dai 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 che si scontra ma scusami perché non si sono scontrate ho sbagliato che cosa ci sto facendo ma non va mazza quanto spamma boh è veramente una porcheria adesso mi uscide perché sono qua ma non vi rompi i coglioni vedere continui stop questa roba qua cioè non vi sa di vecchiume veramente pesante ma lui si para cazzo ogni tre secondi ti spezzerò madò che coglioni non schippa no ma lui non è solo un problema perché va bene quelli fanno parte del giapponese ma il fatto che continui a stoppare tutto per attaccarmi boh è veramente roba super vecchia di giochi di cent'anni fa ma Kakarot è molto meglio questo qua è vecchio che succede? che succede? tanto si para guarda e mi fa grazie per i 52 mesi E' un po' che non me lo faceva questo Sono morto? Ah Pareva ancora una barra e mezza Non è vecchio No è vecchio perché è una roba che si faceva Veramente tanto tempo fa Madonna, ogni 3 secondi Cioè mentre fai lui ti blocca l'attacco Perché deve farti la mossetta del merda Lui con un colpo di colline mette la vita La spamma da morire Ma mi ero teletrasportato Ragazzi, l'avete visto? Ero davanti a lui Gli ho fatto la mossa per teletrasportarmi E poi dopo lui mi ha fatto la mossa col blocco E mi ha colpito Perché ero di nuovo davanti a lui Ma che cazzo? Fate la clip, vi prego Ero davanti a lui Sì, lo so che si parla tanto di questa roba Che è veramente difficile Ma è difficile perché è fatta col culo Non perché è difficile Beh, mi ero si per i 20 mesi Vabbè, lui è sempre in campana comunque Va bene Madonna Che roba vecchia Il teletrasporto continuo tra i due Cazzo Cazzo Perché non hai visto l'online? No, capì? Lino, sì Ma perché sta cosa va bene? C'è un continuo teletrasportarsi Contraattacco È difficile se non conosci le meccaniche del gioco Ho letteralmente avviato la campagna Ma adesso vedi di vedere che non conosco le meccaniche del gioco Dopo che ho avviato la modalità storia Eh, non dicono cazzo No, ma il problema è del gioco però Non è colpa mia Scusa Poi non si capisce neanche il cazzo No, 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 no Ragazzi, non c'è la modalità Allora, allora, allora Non mi dovete fare incazzare Non mi potete venire a dire che c'è la modalità allenamento Per capire le meccaniche base del gioco Dai Ma che cazzo state dicendo? Adesso veramente mi arrabbio Perché mi dà fastidio che adesso iniziate a dire queste stronzate Per giustificare la merda Non potete dire Eh, non sai giocare perché non hai fatto la modalità allenamento Ragazzi, ho comprato il gioco E ho avviato la merda di campagna Non mi potete venire a dire Non hai fatto l'allenamento La campagna, ragazzi Che cazzo dite? Esatto, Lino, esatto Cosa che hanno fatto, tra l'altro? O, quantomeno spiegarti due cagate Pum Massimo che li facciamo La campagna, ragazzi Serve proprio ad insegnarti a giocare È quello che serve la campagna In tutti i giochi Perché faccio più danno lì, Lino Eh, lo riesco però Scusate, mi sono veramente nervosito Perché mi girano i coglioni Quando mi giustificano le puttanate Porca miseria Quando gli critichi il gioco preferito La gente inizia veramente a scrivere le feggio stronzate E veramente mi girano i coglioni Cioè, posso non sapere che cos'è quella merda di numero Sotto il volto di Goku Giocando la merda di campagna Oh E l'ho sparato sui coglioni Maga maga Maria Vergine, che due coglioni sta cosa Ah, mi usa Un numero mi usa Quando carico del tutto l'aura Vai, 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 vai Che si scontrano Ma scusate Ma non si scontrano più? Che sono diventato anziano È una roba vecchia ormai Come funziona? Eh, no Non si scontrano mai Poi io non lo so Sono sfigate le mie Boh Se lui ha priorità sempre in tutto Mi spancho e mi puoi spammare quadrato Perché fa la compo molto più lunga Ok Bene E questo lo rende un bel gioco Sì, lo so che Quelli di Bandai Hanno detto la stronzata Del Abbassa la difficoltà E va bene Loro hanno detto una micchiata Ma a me non dà fastidio Quello Che comunque mi dà fastidio Ma mi dà fastidio Fino a un certo punto A me dà fastidio La gente che giustifica Le porcate che ci sono Oh, Gabriele Voglio batterlo Ma che mi sono i film Vabbè Ma che mi sono i film Ma che mi sono i film Non mi ha respostato Non mi sto lamentando ma la camera non gli fa una se io ho visto male io non c'è successo ho stoppato io è incredibile mi ha ucciso bastava un'onda ma io non ho capito se erano efficaci o meno le onde boh mi pare di non fargli un cazzo sì ho capito lino però c'è bastava spiegare che cazzo è la modalità sparkling e lui non sapevo neanche dalla sua esistenza importante elisa e 55 grazie per quello che fa inizibile a lei quanto chiacchierò veramente tre secondi deve farmelo mi ha già massacrato a a a a a a a Grazie a tutti! Grazie a tutti! No, ma adesso che ho capito che caricando Laura di più diventi più forte, grazie al cazzo, sta andando molto meglio Io capisco che la fight è una merda, ragazzi, ma rimane comunque una merda, ribadisco, il problema maggiore del gioco è che il gioco non ti spiega come cazzo si gioca il gioco Lino ed è successo, ma io non me lo ricordo Cioè, chi cazzo si ricorda cos'è successo vent'anni fa? Sai che cosa è successo negli ultimi vent'anni? Che ho giocato a giochi belli Questa è successo? Questa è successo negli ultimi vent'anni? Questa è successo? Questa è successo negli ultimi vent'anni? Ah poi ci sta che sia difficile la terza battaglia però era un po strano vedo 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 era morto però io non ho visto che cosa è successo negli ultimi 30 secondi quindi vabbè bello eh si sentiva il bisogno di un gioco così mettiamoci la telecamera dei souls quando andava a tempo ti fai direttamente l'ordine invece che dagli vicino ma le onde pare siano inutili come sto spammando in questa manetta fatti la camm e non la fa non la fa l'ho fatto niente cosa fai? sbagliato questo non gli fa niente perché giustamente non gli fa niente perché non deve fargli niente scusami eh devo fare questo ma scusa ma mi ero spostato l'avete visto che mi ero spostato? perché cazzo mi prende? mi sento un po' scemo perché non riesco proprio a capire che cazzo sta succedendo c'è alcune volte per me è proprio a caso non gliela fa la camm e non gliela fa ci ho provato non gliela fa perché la para? ah fa più palline che ti prendono ah sono tre gli spari ma come cazzo li avete visti? che non si capisce una madonna ok ho capito ho capito compito ho capito l'aiperato che è la parte più rotonda di cazzo è questa! Cioè che cazzo è C'è ogni 3 secondi C'è uno stop al gameplay Boh È mia nonna proprio Lo metto all'angolo come in final bout Che se lo facevi poi vincevi per forza Ah adesso l'ho visto Oh potrino spagliare Eh l'ho schivato Tu non lo stai giocando bene Ad ogni piccola mossa vuoi dire Wow è proprio TKC4 Prende il porto a casa Ma che cazzo sta succedendo a schermo Dai gliel'ho sparata prima io Oh la Però ancora non si sono scontrate Boh Io non ho capito caso Tutto una merda Ora il gioco è super easy Ma può essere? Può essere così? Non li guercevano anche l'occhio? Ci sono scontrate Ma no perché? No perché Questo è tutto, Kakarotto! Ancora che si è morto, non c'è nessuna storia! e poi prima stavamo parlando di una persona che non conosce di dragon ball e la trama è raccontata di merda però da fan che sono c'è da fan sta modalità storica sta facendo proprio cagare c'è proprio raffazzonata buttata lì come per dire c'è ma la bocca ma la bocca ma cos'è che ti piace darkness è quello che ti sto chiedendo perché le cose sono tutte schippate a cazzo a parte qualche cazzo in più o meno che comunque salta di palo in frasca cioè cos'è che ti sta piacendo di questa modalità storia cioè scusami ma gohan che prova a tagliargliela qua schippata a cos'è servito far arrivare gohan se poi dopo c'è giro bike e gliela taglia anche fan si sono stoffati di giocare la storia già vista e già giocato 30 anni fa dei giochi di dragon ball perché la schippino se non ti piace la schippi fai la modalità allenamento quella che mi avete spammato fino adesso anche sta cosa che crini di passa mai mai usato poi dopo allora max e no versi non piaceva però era qualcosa di diverso cioè ste cazzo fa cacare no allora se giocate con gli amici io lo capisco ragazzi però che palle che gioca una pallavolo ho capito che i what if sono carini però non viene giocato per la storia se ci pensi è perché cosa viene giocato però allora ragazzi il fatto che abbiano fatto cacarot non giustifica non fare più niente di simile cioè voi vi siete fossilizzati su cacarot però un gioco di 4 anni fa e altro che puoi far tornei online di sta roba porca troia ogni 3 secondi ci sarà uno che stoppa il tempo per fare l'onda va bene no non è un'enciclopedia sto gioco perché non mi sta dando proprio niente di di vibe fighters è molto più bello come gioco di lotta peccato che non ti puoi trasformare nel mentre ma fighters è molto più bello come gioco di lotta ma gli caga in testa a questo fighters eh siamo già finiti contro la squadra genio questo è il classico gioco che compri per giocarci con gli amici in memoria dei vecchi tempi in cui si guarda la dragon ball insieme da piccoli lo accetto e vi voglio bene per questa cosa però non venitemi a dire che è un bel gioco sono d'accordo ragazzi sono d'accordissimo va bene va benissimo come giocare a ctr sulla play 1 sì però cazzo eh no ma non so giro che cacarote perfetto lino eh infatti ha dei grossi problemi però avrei preferito un'evoluzione è una merda coccolino eh ma ti capisco citano cioè è proprio una schifezza no sono giochi diversi lino però anche il mondo dei picchiaduro comunque si è voluto un pochino da sta roba eh io sto primendo x XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aiuto non l'ha affitto ma mi ha rotto la maglietta era così dall'inizio del combattimento a tutta? la faceva contro la squadra Gini o no? non credo non l'ha fatto niente giustamente aiuto? ma quando iniziano una combo è finita? cioè non puoi permetterti di fare nulla se non premere quella roba lì? non vedo l'ora dove è andato? questa roba che stoppa al tempo guarda se la fuori bloccata lui dove vai? guarda se la fuori bloccata è la fuori bloccata Un beh, una sub E non vedrai mai più la pubblicità Fighters penso sia tanto difficile Ammasterare rispetto a questo Sì, certo, perché è un gioco vero Qui veramente spammi lo stesso tasto Ma magari non parlano sott'acqua, pensano Quando dice Magamago, cosa dice la data? Perché sapete il giapponese Ma bene Sono madrelingua, già poi Voglio fargli la KMMA Kaioken per 20 È morto? È morto? Ma che pippa, Gino Ah, dice Mada Mada Smarmi il quadrato a vero inizio Poi non sarà più sufficiente Ti spiegassero come funzionano le robe Bezida Ciappa qua, Sempio Oh Bacana Cheange Nani Doka c'è super allenamento che ti spiega tutto ragazzi allora mentre stavate giocando che cazzo ne so a super mario mentre stavate seguendo la trama del gioco vi siete dovuti fermare per aprire una seconda modalità per capire come si saltava e correva grazie Luke per 25 mesi buongiorno super mario e meccaniche incroci questo no certo e quindi lo giustifichiamo ok prendiamo qualcosa un gestionale frostpunk 2 senza tutorial era scarno il tutorial di frostpunk però minchia assenja freezer perfetto ok cioè io non sto chiedendo un tutorial di roba avanzata sto chiedendo un tutorial di roba che è a schermo esatto se c'è l'allenamento perché non mettermelo come tutorial esatto ad esempio quando siamo morti e andati da recaio non potevano mettere un secondo tutorial per fare qualcosa di più approfondito non mi ha spiegato niente nel combattimento iniziale con vegeta mi ha spiegato semplicemente i tasti in questi giochi la storia dovrebbe essere il protesto per fare il tutorial sono assolutamente d'accordo non ancora Silent Hill 2 l'ansalotto no me lo fai skippabile al massimo mettere il tutorial a parte è proprio una puttanata al massimo se so già cosa fare fai come in pokemon sai già come si catturano i pokemon? si ah ok non te lo spiego molto facile è dato tutto per il soggettivo va bene va bene io adesso voglio sapere in quanti in quanti cazzo di giochi voi andate a giocarvi un tutorial prima di iniziare la trama adesso porca puttana voglio sapere in quanti merda di giochi fa testa stronzata per cortesia ah aspetta non voglio iniziare la trama del gioco mi devo fare il tutorial prima cioè sta andare a cercare il pelone rumore ma perché perché ragazzi è un picchiaduro perché cazzo devo uscire dal menu riesco proprio a capirvi sinceramente è il gioco bellissimo sono contento che sia uscito o comunque che freser ma ma asfaltare i confronti o no ora non c'è motivo per cui continuare a giocarlo essere sincero tanto comunque anche se ritrovo dei difetti la gente mi viene a dire che è una tua opinione cosa è appena successo cosa è appena successo nerd lady grazie per i 28 mesi è identico al gioco per me di decenni fa esattamente quello esattamente quello ecco qua comunque io veramente voglio sapere chi cazzo chi cazzo prima di iniziare la trama di un gioco avvia il tutorial a parte io io veramente voglio sapere questa cosa qui perché per me è proprio boh io ho provato drifton c'era l'opzione tutorial sono andato direttamente in campagna il tutorial me l'ha fatto comunque ma è normale allora il fatto che ci sia un tutorial a parte va benissimo perché magari ci rigiochi dopo dieci anni non ti ricordi magari non devi rigiocarti la trama ogni volta per giocarti il tutorial va benissimo il fatto che ci sia il tutorial a parte però non mi potete venire a dire che deve essere a parte perché sì per le meccaniche base del gioco dai in questo caso è una cazzata perché ti bastano le tre cagate che ti ho detto inizio non è vero darkness perché lo stesso lino che lo sta giocando e amando mi ha detto la stessa cosa che serve comunque sapere roba più approfondita non potete concordare con darkness adesso perché tutti gli altri fino adesso mi hanno detto che che problema c'è ti fermi vai a fare il tutorial adesso non potete tornare da darkness e dar ragione a lui amando no mi sta divertendo vabbè teniamo un po indietro alla fine se spammi schivi basta darkness io sono d'accordo con te gli altri hanno detto che non è vero allora no no ma d'accordo con te ma infatti sono d'accordissimo è la gente che mi è venuta a scrivere altre puttanate ai miei tempi le meccaniche erano scritte sulle confezioni del gioco ed è molto vero che gioco è se devi solo spammare e schivare ma è quello e poi ogni volta che fai l'attacco più forte si ferma il tempo e ti fa la mega onda però la trama fatta a cazzo va bene perché chi vuole rigiocarsela la mancanza di tutorial va bene perché tanto te lo danno a parte scusatemi e me e che cosa rimane poi vi piace giocarci sul divano con gli amici e ridere scherzo ho capito ci sono un miliardo di giochi che lo fanno boh è un po la base di picchiaduro tekken street fighter anche king of fighters se ne prende di tempo in allenamento si peppe non nella modalità storia cioè voi avete veramente chiuso a metà tekken durante la storia per farvi il tutorial boh a me non è mai capitato in nessun gioco di a metà gioco mi devo fermare fare il tutorial perché non sto capendo come si gioca a metà boh certo che tekken nella modalità storia ma certo che c'era il tutore nella trama boh io ti do un bacio c'è una marea di gente che compra questo tipo di giochi anche solo per la storia e non per l'online ti limono adesso se voglio giocarmi sulla storia non devo aver bisogno di tutorial a parte adesso dobbiamo fare sesso mi sembra di vedere i ragazzini in chat che comprano cod e dicono la trama è una merda non la gioco gioco direttamente online quando invece cod ha avuto delle trame fighissime cioè veramente mi sembra di leggere puttanate di questo genere la trama in cod non serve perché il vero core del gioco è l'online va bene va bene non so hanno tolto la trama in cod e dato tutto della merda boh qui un player che giocava principalmente trame di cod uguale eh lady uguale io ho giocato quasi solo la trama dei cod poi non sto in risultando a chi gioca online anzi ci mancherebbe quello il core del gioco però non vedo perché la trama non debba essere ben curata o bella no lì non ho giocato tekken l'ultimo però ho giocato a coso l'ultimo che ho giocato è stato mortal kombat che aveva la trama con tanto di tutorial e tutte le spiegazioni un altro picchiaduro anche in fighters c'era il tutorial continui a essere dell'idea che basta fare un po di ampia un po più ampia la parte iniziale con vegeta ed è tutto posto sono assolutamente d'accordo per cod non è ciò che ruina gioco non è vero ragazzi c'è l'online di cod è quello che la gente si porta avanti per una vita e ci sta eh per carità però non puoi togliermi la trama lì serve perché sono meccaniche base e quelle avanzate qui basta premere xrb e stai a posto eh ma non era vero darkness perché ad esempio io non sapevo che facevo più danno se caricavo di più la barra ma poi andando proprio sulla minchiata il numero sotto la faccia di goku ma io che cazzo ne so di che roba è poi ci siamo ci sono arrivato ma che gli faceva schifo spiegarmelo esatto se non gli spiegavamo la sparkling mondo era ancora contro vegeta scemia certo certo assolutamente sì e bastava tenere premuto un tasto eh cioè non è che mi serviva aprire un altro menu far partire un tutorial per sapere che bastava tenere premuto un tasto mancio buona live grazie mille grazie anche a zygel siamo ancora qui e infatti tutti hanno detto che il gioco è difficile ma in realtà non è così difficile perché comunque vegeta è uno spammone di merda ma l'abbiamo segato praticamente subito una volta saputa la meccanica base no ma infatti se hai già giocato gioco schippi tutorial buonanotte ma spartano sì ci sta che a te piaccia il gioco però lo stai difendendo come se fosse il gioco perfetto ma in realtà ha dei gravissimi problemi poi il fatto che a te piaccia a me fa super piacere ma io ragazzi io da quando da quando vi ho detto non dovete divertirvi con un gioco ma godetevi a me piacciono i souls che sono una cozziala di merda c'è il The Ring che è stato il mio gioco preferito di quell'anno e gli ho tirato merda dall'inizio alla fine perché ha un sacco di merda non esiste il gioco perfetto l'importante è che vi divertiate a me non interessa venirvi a dire con cosa vi state divertendo a me dà fastidio quando mi venite a vendere un gioco come se fosse il gioco della vita quando invece chiaramente non lo è però i giochi from sono diversi Peppe attenzione a parte il fatto che nei giochi from il tutorial c'è c'è il tutorial tutte le meccaniche ti vengono spiegate nei giochi from poi tutto il resto sono cazzi tuoi ma sono d'accordo comunque che i giochi from come ho appena detto abbiano delle gravi lacune e delle merdate prima tra tutto il fatto che c'è il nemico più grande del mondo che fa ole e colpisce attraverso tutti i muri tu fai così con la spadina colpisci il muro fa è una merda ma ci sta spartano che che tu passi sopra dei difetti va bene il problema è che mi è venuto cioè la gente mi diceva devi assolutamente giocare dragon ball sparkling zero perché si sentiva bisogno di un gioco così siamo nel 2024 ho giocato giochi che gli cagano in testa a questo gioco poi vi divertite sì va bene però porca troia veramente sta tutto lì perché poi dopo trovo dei difetti del gioco e mi dico eh vabbè ma questo è una tua opinione che vi devo dire mi taglio le vene non so no secondo me un gioco di dragon ball ci stava potevano farlo ma io me lo sarei giocato con molto piacere ma ripeto il problema di dragon ball è lo stesso problema che ha avuto anche naruto l'ultimo gioco di naruto adesso mi sa che me l'ha dato per xbox però no naruto tubo ru mi chiede il 2018 ma va vabbè comunque l'ho giocato nel nel 2018 e già allora mi aveva rotto i coglioni perché era la solita solfa niente di che ed è un peccato perché mi sarebbe piaciuto seguirmi la trama mica ma veramente nel 2018 è quel gioco là che storia ah c'è naruto ah naruto x boruto hai ragione quello ce l'ho per xbox allora ok quello lì me lo sono fatto dare per xbox perché questo qui l'ho giocato 5 ore e già all'epoca mi ero rotto infatti pareva strano comunque il problema era sempre lo stesso spammavi gli stessi tasti era tutto carino da vedere però era una roba super dimenticabile come purtroppo tutti i giochi degli anime però quando si parla di naruto e ne avevo parlato all'epoca tutti mi hanno dato ragione oppure mi hanno detto vabbè che cazzo ti aspettavi da un gioco di naruto dragon ball fa la stessa roba e però difesa spada tratta per diablo è ladd anzi a proposito aspetta che mi devo anche passare una roba aspetta quello di bleach che sarà identico agli altri lisa identico come ti ho già detto rocky dragon ball off in open world dove puoi fare tutto sbloccare potere eccetera puoi rigiocare la trama che conosciamo quando abbiamo dieci anni non ha senso secondo me io la trama me la rigiocherei molto volentieri perché io ti dico questa cosa io il manga di dragon ball me lo rileggo a ciclo adesso lo sto ricomprando e quindi sto leggendo sto dando un po di spazio ad altro perché adesso ho preso altro però guarda io dragon ball ce l'ho qui adesso me li pian piano mi me li ricompro tutti in digitale perché mi piace averli tutti sempre a disposizione però eccolo qua mi sto rifacendo le riletture infatti mi sto rileggendo shaman king me lo sto rileggendo perché è uno dei miei preferiti naruto ho ricominciato naruto e dove cazzo è dragon ball si è perso eccolo qua dragon ball cioè io me li rileggo perché sono cose alla quale tengo parecchio gli voglio bene e me lo voglio rileggere io avrei veramente un gran piacere di rigiocarmi un gioco che mi ripercorre la storia di tutto dragon ball l'app libri di apple fronage ma online potete fare quello che vi pare online ragazzi non me ne frega niente non è per me io voglio giocarmi la storia però non vedo perché fare un online bello e una storia de merda allora aspettate un attimo che devo mettere una roba a schermo adesso che non ho potuto farlo durante l'inizio della live perché l'hanno cancellata e quindi me la devo spostare qua che cazzo faccio fare multimediale vediamo è una gif eccola la perfetto e giuriva ne son passate di acque sotto i fossi no non mi è piaciuta europa purtroppo orca miseria davvero è lì io non ho niente sai aspetta trovato trovato no no ho trovato trovato era dentro l'altro brief stavo cercando nella mail ma in realtà era tutto giustamente nel brief un secondo che ero schiusa sono stato ma veramente sta cosa qua devo mettere ma è una merda va bene io non so come metterlo questa cosa qua adesso scusate mi sono mi son perso un paio di robe sta settimana che è assolutamente colpa mia allora più aggiungi immagine ok ok adesso qua sotto dovreste trovare il banner di diablo il bot mi pare di averlo già fatto se non sbaglio fammi controllare tanto qua si fa tutto in corso d'opera siamo giovani bugia incredibile allora fammi vedere no ah no è vero perché avevo lasciato quelle timber borne giustamente perché ho dovuto rifarlo ma che problema c'è si risolve easy quindi Ollè! Zaccate! E zaccate! Olè! Fatto! Che bello Shaman King! L'anime è una merda! Leggete i manga! Leggete i manga! In realtà l'hanno rifatto adesso l'anime, ma... È più fedele al manga, ma ancora non è la stessa roba. Un clan da poter giocare tutti assieme esiste? Certo! Non mi ricordo più come si chiama. Giuoca! Allora... Faccio l'ignorante di turno. Perché c'è l'uomo... L'uomo cacciatore nella foresta tutto verde? È un nuovo personaggio? Perché io vorrei semplicemente andare avanti con la trama. è la nuova classe. Ok, ok, ok. Non lo chiappa? Ok. La coda, dai! Lo spiritista. Però io voglio continuare il mio. Faccio una pisciatina e arrivo. Allora... 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 Contorni evidenziati standard... Che cazzo... Aspetta... No... Standard... Mi piace più. Ok. Ok. Ma aspettate... La storia non porta avanti dalla tipa moncherina? Eh? La stagione... La stagione dell'odio crescente è qui. Ah! Salve, viandante. Davanti a te c'è la munificenza della storia. No, fammi giocare. Sì. Non lo so. Fammi giocare. Eccolo qua! Dobbiamo sistemare l'audio, però. No, voglio giocare con lui. Oh. Ero a casa vecchia, vero? Ero a casa vecchia, vero? Quando... No, ero a casa... Ero a casa mia. Non in ufficio, ovviamente. Noooooooooooo! Noooo! Perché? Cosa vuol dire? Però scusami, ma posso comunque... Posso comunque andare. È solo per il season. Ok, ok. Non mi frega il cazzo. No, 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 dai che mi schifo. I tre discendono. I tre ti aprono la via. E uno muoverebbe inizio. E uno muoverebbe inizio. Sì. Soprattutto Lilith. La salvezza non è nella luce, ma in voi stessi. L'unica speranza era un viandante che aveva ingerito il sangue del demone. Questo legame con Lilith fu fondamentale per svelare i suoi piani. Altri si unirono alla causa. Io, l'Orat, ero uno di loro. E anche i miei amici Donan e Neirel. Vorrei che le cose fossero andate diversamente per lei. Scoprimmo che Lilith non voleva solo dare potere all'umanità. Questa chiave apre più delle porte degli inferi. Apre la strada verso il futuro. Voleva divorare suo padre, Mephisto, il signore dell'odio. Lui stava rinascendo negli inferi. È ancora debole. Vulnerabile. Devo colpire prima che possa resistere. Se Lilith ci fosse riuscita, saremmo stati spacciati. Non avevamo altra scelta che seguirla negli inferi. Anche l'angelo Inarius e la Cattedrale della Luce erano sulle sue tracce. Un esercito di pecore guidato da un leone folle. Lo stolto credeva di essere destinato a uccidere Lilith. Il paradiso non ti parla più. Ormai... 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 Nerel invece imprigionò Mephisto. Inoltre nel farlo, negò a Lilith il potere che bramava. E perdeva un braccio? Non saprei dire cosa passò per la mente del demone. Rabbia? Certo, ma c'era anche dell'altro. Rimorso? Tristezza? Con un ultimo respiro, lei ci avvertì di un futuro nefasto Senza di me, non potrà esserci, Vittoria Nerel partì per estinguere il male di Mephisto per sempre La sua missione era nobile, ma era un peso terribile da portare da sola Lillith era caduta, ma la battaglia con gli inferi era solo agli inizi Oddio, io l'avevo letta in una maniera differente, il finale Evocatore, tre anni più due mesi, grazie mille Eh, adesso cerco di abbassare Ehi, bambina Ti senti bene? Neyrel? Stai bene Ti prego, ti prego, figliola Lascia che ti aiuti Neyrel È così che ti ho cresciuta? No, madre Ma... Ma devo portare questo peso da sola Io devo andare alla tomba di Akarat Ma guardati Tu ti stai uccidendo Io... Io... Io non so quanto a lungo... Potrò... Shhh... Sono qui Scricciolo mio Mi sei mancato così tanto Sono molto fiera di te Maura Tu, tesoro Ti devi Arrendere Cosa? No No, no Ma certo, sei tu Razzati morto Lasciami andare Lasciarti No Tu Hai fatto Una scelta E io Te l'avevo detto Scricciolo mio Che ci sarebbero state Consequenze Arrenditi No No Io controllo la pietra Tu Hai La pietra Non controlli Niente No No Forse hai ragione Forse io ho bisogno di... Di aiuto È morto Eh... Eh... Ahah... Che c'è rimasto? Vabbè... No... Che... Che cazzo? In realtà sta bestemmiando Che fa questo Oh Mi ha dato il cagnolino Oh Che bello Allora Sì Beh... Fermi Sai che non mi ricordo più come cazzo si gioca? Allora... Passiamo... Cos'è migliore immagine? Cos'è migliore immagine? Tiè... Io avevo ancora la 3080 quando ho giocato l'altro... Eh... Eh... Cold... Va... Ti capisco... Vediamo un po' come si giocava... Non finché sono in città... Hai ragione... Scusami... Eravamo arrivati all'alberello quello delle teste appese che era un'altra roba fighissima... Ma... Pazzo non mi ricordo una sega... Pazzo non mi ricordo una sega... Se ne ho giocato un po' di roba diversa nella meccanica di sviluppo del personaggio... Non ho più giocato purtroppo Sì sì l'ho finito Cold Ma infatti sono contento del DLC Perché voglio andare avanti Di trama Allora il mio clan è I gatti È abbastanza semplice Richieste Vi accetto dai Come si può accettarli tutti? Scusa Scusa Giugno 2023 E non mi ricordo più Avevo già la 480 Ci metteremo un po' Ah non era così tanto Ah a posto in realtà Fatto Dei fare il tutorial Per cosa? Eh aspetta L'animaletto Dov'è che era? Cos'è questo simbolino rosso? Era una battuta Haha Il simbolino rosso è perché È della vecchia espansione Quindi è roba vecchia Per quello mi dà così Guarda che trovo l'armadio Di sopra forse Qui però cambiava solo Le sembianze No? Beh non me lo ricordavo così Generico Cos'è? Bellissimo Carino Va bene Oh ecco qua Oh che caro uno Natalia Ok Eh no dai Prendiamo Sifetaschi qua Andiamo L'hai detto che si poteva anche pettare Non posso farlo qui Ah scusami ti vergogni? No non me lo sto facendo fare Così così Salute Oh 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 Boom E poi ovviamente Adesso del personaggio Mi ricordo una sega Quindi Ah guarda Lo bene anche qua Bene Però questo Cambia semplicemente Bellissimo Però cambia semplicemente Santo cielo No Non è il mio genere Bello Non è il mio genere Questo si No per niente Mi piace essere vestito da stronzo Se raccolgo oggetti da stronzo Ok Vediamo se trovo Il coso delle abilità No 34 ore 34 ore Abilità Eccolo qua Ma che cazzo si ricorda niente qua Vabbè Vediamo Che palle Quando i giochi Buttano fuori In del si dopo così tanto tempo Bello Bello questa Europa Non è Europa Questo Come vedi dal titolo Della live Tutto bene? Lasciala stare Ha già sofferto abbastanza Ti dirò tutto quello che vuoi sapere Oh che cazzo È iniziato la notte scorsa Con il rintocco delle campane Ammirate La reverenda madre Brava E il cavaliere Arso Urivar Unici sopravvissuti Della battaglia Al portale degli inferi Ma in realtà Ci sarei pure io Oggi ci riuniamo Per assistere All'alba Di una nuova era Un'era Resa possibile Dal coraggio E dal sacrificio Di nostro padre Inarius Io e Urivar Siamo tornati Dalle profondità Degli inferi Per portare Il suo messaggio Insieme alle Oliver Maschi Grazie per i 5 sub Grazie a tutti Oliver Negli inferi Guerra e fiamme Mi hanno purificato Il dubbio e l'impietà Sono bruciati Ma alla fine Io Sono stato Salvato Mi fa piacere Che chiunque Segua la luce Possa avere E lo stesso destino Però ho fatto tutto io Ricordiamoci eh Riccardo dai la scuola È un mercenario Che ha giurato Fedeltà A quell'omicida Di Lorat Ha provato A nascondere La ragazza Oradrim Neyrel Dal nostro Giudizio Una ragazza Che ci minaccia Tutti Portando un frammento Dello stesso male Che io Ho combattuto Negli inferi Accetti Di pentirti Dei tuoi peccati E camminare con noi Nella luce No Che tu sia benedetta Reverenda madre Ti ringrazio In nome del santo padre Lo giuro Liberatelo Dalla sua vita No Non gli va Con tutto il rispetto Reverenda madre Padrinani C'è il segno Che bello Quando diventano Uber religiosi Ammazza la gente Crizo light Grazie per i cinque mesi Manca un abbonamento E parte il treno Treno già pompato Da Oliver Arrinnovatevi Eccolo Canal Grazie per i 29 mesi E treno sia Come Dove gliel'ha messa La spagna Io vi ho detto Mi sono pentito Vedete I suoi peccati Erano troppo grandi Troppo profondi E la sua fede Non è stata abbastanza salda Da salvarlo Il male Non verrà più Tollerato A santuario E dimostreremo Al paradiso Che noi Siamo Degni Adoro quando vanno Sul fanatismo Così Beh è stato impurato Non permetterò Ai fedeli Di Narius Di piangere Per un peccatore Non lo ripeterò Non avete dignità Andate via E tu Tu sei il cagnolino Abbandonato Di Brava Oh Tato ti calmi Tato ti calmi Che triste esistenza Senza fede Ecco qual è il problema Con te Grazie a me Per il 100 bits Pensieri del genere Portano sempre Alla superbia E la superbia Porta al fallimento Che peccato Outlast 2 Mamma mia Ha seppellito Suo fratello Ha cacciato via Quella Mocciosa Di Neirel L'unica Consolazione Che gli resta È attaccarsi Alla bottiglia Fa attenzione Viandante Il giudizio Arriverà Per entrambi E fuori Dalle mure Cittadine Neanche la nostra Reverenta madre Potrà fermarne La mano Quel brutto bastardo Avrà già inviato I suoi fanatici Alla ricerca Di Lorath È meglio Che il vecchio Sia vivo Pardon Pardon Scusatemi Eccomi qua Grazie Gabriel Non so perché Hai cambiato voce Ho fatto ridere Però Comunque sì Veramente Un grandissimo Peccato Per Outlast 2 Che lì Andavano Super fanatici Completi Fuori di testa Con Tanto di Anticristo In realtà Però Proprio Si perde In un bicchiere D'acqua Veramente Un dispiacere Outlast 2 Andare a vedere I resti Ma Scusate Io non ho Una cavalcatura Con la Z di zorro Ne avevo Altre Oh Figo Si però Sembro un po' Uno stronzo Eh va detto Così Quindi non so Se voglio Dallo Stagliere Hai ragione Andiamo a vedere Che magari Ne abbiamo Sbloccati di nuove Allora Coccolino Intanto ti calmi Che tutto questo potere Ti ha dato la testa Cazzo Fighissimo Questo pezzato Qua Ma questo simbolino Qua in basso a destra Che cos'è Perché del DLC Questo è quello Che abbiamo usato Fino adesso Che è comunque Super fighissimo Questo qua Però non mi dà Un vibe Non mi dice Mazza Non so se voglio Cavalcare una Non so se voglio cavalcare Una 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 tigre Questo è Fighissimissimo Si è indeciso Questo insanguinato Questo è veramente Figo Stiamo qua tutto il giorno Io ve lo dico Questa è l'armatura Per Quell'altro Ma che figo Ma facciamo questo Così Trofei Pure lui Ma che è Ma non mi dà roba Che non so La luce ti illumini Eh non lo so Cavalcare i felini Non mi dice niente Ah perché Non dallo shop Ok Vediamo se mi ricordo Come si gioca Eh ho vinto Ma a quale prezzo Non mi ricordo Ho vinto Morto Continuano uccisi Cavalieri Alla luce sacra Del padre Non stai nel limpalazzo Aiutami Ho poca furia Ho poca furia Ti mancava la frase Ho poca furia Tutte queste cose Bella larga Oh bestia Aiuto Allora Allora Vado, se te ne infilo nel culo i miei peccati. Mellifue. 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 Bello. Mi serve più furia. Allora, va detto che... Non sono underlivellato. Allora... Questo mi fa meno armatura. Cazzo, però questo qui me l'ero potenziato in mille modi. Allora... Danni aggiuntivi quando cambi arma. Resistenza al fulmine e tutto il resto. Ah, ma aspetta! L'oro è sotto il leggendario. Ok. Resistenza a tutti gli elementi. Confrono, fammi vedere. Ok. È una pippa. Cos'è questo simbolino rosso, ragazzi? Me l'avevate detto prima e me lo sono perso. Il simbolo del teschetto che c'è. Rigo è nel pass! I temi vecchi prima del cambiamento di meccaniche. Eh, ma che cosa... Cosa implica? Non possono essere potenziali. Ah, ok. Allora, questo qua mi fa... È poco meno potente del mio. Però, vabbè, cioè... Aspetterò comunque. Cioè, il mio comunque è meglio. Ups! Non posso ancora farlo. Il giudicatore infiammato! Ammata come è incazzato lui! Ho finito la furia. Ho finito la furia. Ho finito la furia. Devo attendere. Ehm! Sai che mi ricordo ancora come si fa. Più o meno. Cosa fa là? Ah, una nuova abilità. Allora, io non mi ricordo se queste potevano essere... Cioè, quelle piccoline erano passive? Oppure le dovevo mettere? Quelle grandi sono le abilità. I cerchietti sono passive. Perfetto. Grazie mille. Adesso dovrei leggermi tutto quanto. Aspetta. Magari potenzio già la roba che ho già. Allora. Aumenta la tua vita massima del 10% che era successivo in vita massima. Ok. Se no... Questo l'abbiamo già fatto. Questo l'abbiamo già fatto. Le tue abilità urla riducono i danni infatti ai nemici del 4% per 5 secondi. Ok. Infriggi 3% di danni aggiunti nei nemici vicini e ottieni una riduzione di danni da lontano. Cazzo, è buono questo? Bello anche questo. Guardami questo. Qua. Poi. Sto andando a sentimento perché non mi ricordo una sega. Abbiamo sbloccato dei vestitini. Che è questa roba? Gli affissi possono essere applicati ad anelli ad amuleti. Ah, figo. Però io non ho in posto dove metterli. Ok, questo è meglio del mio. Mi toglie un po' di forza, però mi dà più furia per uccisione e velocità di movimento. Quando un tuo nemico scende di sotto il 35% della vita ed è affetto da un tuo effetto di danni periodici, ogni 7 secondi si verifica un'esplosione. Ok. E' buono questo, mi piace. Ok. Posso metterci questo, giusto? No. Ah, no. Ok, niente, come non detto. Danni da ultra. Tiè, facciamo così. Posto. Poi. La mannaia della giungla del desiderio di morte. Ascia due mani tagliente, leggendaria, 506. La mia è potenziata. Quindi questa potrebbe diventare meglio? Secondo me sì. Come si potenziava la roba? Dovevo comunque andare al posto giusto. Dal fabbro. Il mio riquadro in basso a sinistra. Io mi posso spostare. Quell'affare lì no, purtroppo, ragazzi, Wallace. Non so se posso metterlo qui, se non si arrabbiano. Comunque. Questo fa 160 dps. Però è buona la mia delle abilità, eh. che... Dopo andiamo dal fabbro e vediamo. Luca, grazie per 51 mesi Uh Eh, tutti calmi, eh Cazzo Fatica No Ho le tibie rotte Le gambe sono un peso morto Dov'è Lorat? Non lo so Non lo sa nessuno È la terza volta che vengo qui a cercarlo La prima che mi catturano Ho portato un messaggio per il vecchio Abbiamo trovato Neyrel Ah Neyrel? È al sicuro? Ma cosa succede alla mia voce? Un mio amico la sta tenendo d'occhio Grazie Luca Il fabbro rare L'uomo più grosso di Jekyll Lui saprà dove è andata Viandante Oh Così tanti cadaveri Che portano sempre a te E chi abbiamo qui? Signora Sono qui per chiedere aiuto Loradrim Lorat Era indubbiamente sacrilego Ma affidabile Vedo che non è qui Dov'è Neyrel? Devi fare i cazzi tuoi Come se ora ti rispondessi Vattene Prava I tuoi cavalieri sono già morti Non ha senso raggiungerli C'è un affetto strano nella voce Che opinione hai di me? Credi che ridurrei una donna in fin di vita? Quella è stata opera di Urivar Non mia Chi è Urivar? Che cosa sai su di lui? Era un uomo di fede Un altro cavaliere Che ha marciato negli inferi Senza nome Senza volto Non ho mai compreso Chi fosse davvero E fino a ora Un uomo pentito implora perdono E Urivar lo brucia vivo Vabbè ci sta Non c'è fede in un atto del genere Nessuna redenzione Solo ego Ma secondo me ha fatto bene Non lo hai fermato No È vero Ma hai iniziato una guerra Per il cuore della cattedrale Salvare ogni vita Significherebbe perdere la guerra Non siamo nemici Viandante Non lo eravamo quando ti ho dato la mia benedizione Né quando abbiamo combattuto insieme a Caldeum E non lo siamo ora La tua mente si rivolta contro di me Lo capisco Ma col tempo Accetterai la verità Tutti coloro che servono la luce Devono unirsi O moriremo soli Al freddo Parlare con lei non serve Vai Trova Raer Io me la caverò No Cosa ha fatto? Ha avuto un attimo di Vediamo se di strada c'è un Un fabbro Eccolo là Eh figa Fino dove mi hai dato andare Qui Ok Allora mi fermo Un pelo prima Eeeh Dove 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 Qui Hanno cambiato i potenziamenti? Ok Categorie ricetta Cosa cambia scusami da Ora puoi aggiungere due affissi secondari E puoi potenziare Ma quindi Cioè scusa Non lo posso potenziare Basta O è rifinitura Cioè Allora Devo Prima E far questo E il dottor Lele Grazie per i tredici mesi Facciamo questo E questo Ah no O questo O questo Perfetto Va bene Va bene Ok Ah però ne posso mettere un altro adesso E comunque meno potente Ma perché L'altro La lama demoniaca Ha potenziamenti Quattro Scusa un secondo Sto capendo Una madonna No Dov'è E non posso potenziarmela La lama demoniaca Però è più forte Di questo No Ci sta Che la roba vecchia Non lo possa più fare Però è più forte Cioè Perché dovrei cambiarla Quadratini sopra No Quali intendi Scusa Rifinitura non si può Al 18% Di danni In più Sì Però Prima proprio Si potenziava In maniera Differente Quindi Qui Si potenziava Anche Qui Di danni Sì Sì Qusell Qui Si potenziava Si Eh Si Sì 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 No. Acci, guardate tu e con la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Grazie mille. Ah, quella non ce l'aveva il castone. Questo si poteva cambiare, vero? Non finché sono in città, scusami. Ma per vendere, invece, basta fare ricicla. Non posso farlo qui. Chiamato ogni cosa per il calcolo delle stazze. È però un casino, porca miseria. Ricicla, distrugge e prende i materiali. Però non mi dà i soldi. Sono disolutivo dei problemi, va bene. Ah, c'è stato il racconto contrario. Speriamo bene. Mi sa che ho fatto delle cazzate qua. Oh. Oh. Ah, molto figo. Cioè, se distruggo un leggendario adesso la sua passiva me la posso infilare nel culo. Buona. Ruba, ruba, ruba. Ruba mia. Ci sono? Ci sono? Allora, il gioco mi ha tirato degli scattoni. Mi ero fatto un caffè nel frattempo, ve l'avevo detto, ma voi non lo sapevate. Il gioco ha tirato degli scattoni. E ho detto, porca troia. E poi dopo si era ripreso un attimo. Ma a quanto pare mi aveva fatto crashare OBS. Boom. Ho riprovato a far ripartire ed è crashato di nuovo. Adesso ho chiuso il gioco. Ma vediamo, perché non so come risolverla. Quindi, boh. Comunque ragazzi, io ve lo ripeto ancora una volta, vi chiedo questo piccolo favore. Per favore, non continuate a scrivere F quando crasha la live. Scrivete al massimo che cosa è successo. Va bene? Uno. Due. Basta lamentarvi delle pubblicità. Potete eliminare tutte le pubblicità semplicemente facendovi l'abbonamento col Prime, che è gratis. Oppure facendo quello di 6 mesi in 6 mesi, che vi conviene tantissimo. E non ci dovete pensare più. Eh? Eh, ho letto, ho letto che qualcuno... Sì, perché non mi hai lasciato la connessione. Cioè, io ho continuato a leggervi la chat. Aspetta che adesso mi sta installando un update di Razer. Non voglio far avviare troppe cose assieme. No, a parte il signor Piero che mi stanno pagando, quindi non credo che si possa chiudere la live in quella maniera lì. Però mi stava piacendo. Cioè, in realtà, stavo ancora cercando di capire tutte le basi. Mi fa ridere questa cosa che ti lamenti delle F. Perché ti era così fastidio? Perché la gente lo scrive per qualunque cosa, senza sapere un cazzo. Potete che ho avvisato, ovviamente. Vesato Elisa. Ok. Vado. Ok. Aiuto. Spera che scatta. Ok. Tutto a posto? C'è un video di cinque giorni fa che spiega come non farò cashare a causa di OBS. Ma dai. No, no. Ha scattato anche a me. Ma credo che sia una zona un po' pesante. Che marcelli! Ho finito la furia. È vero? Ho finito la furia. Ok. Il volume è tornato alto. Eh no. Vabbè, questa è colpa di Windows, però. Ragazzi, slide per i 14 mesi. Ma Tom, ma ci sta andando proprio malissimo. Ma era andato da Dio fino adesso. Devo attendere. Che cos'è? Che cos'è? E' ancora alto? A basso? Non posso ancora farlo. Sì, ultimamente è un po' un casino con gli Audi, è vero? Ma è strano, sono una zona poco ottimizzata. Non ho idea. C'è gira poco male. Non ho abbastanza furia. Forse perché ho messo il Ray Tracing. Cioè, adesso ho tolto il Ray Tracing, però non posso togliere i particellari. Proviamo a far così. Provo a toglierlo. Secondo me è stato quello, però mi sembra strano. No, no, come scotta sto caffè. Non si può togliere, perché? Sì, che è sempre andato da Dio. No, magari lo chiamolo a 60 frame. Dai, che così siamo sicuri. Ok. Ok. Che strano. Cos'è successo? Perché giorno adesso? Cosa è una cosa che non va. Ma era notte prima, sì? Ok. Perché non mi dà questa pozza, scusa? Ah, perché sta tornando comunque sulla sola, la vita. Ho sbagliato strada. Come passa il tempo quando ci si diverte. Madonna se sono un trita sassi. Qua ce n'è uno grosso. Ho poca furia. Cosa è veramente un blocco, tutto quanto lo stile, le robe. Vediamo il circolo grosso. Ah, è chiuso? Ah, il Balrog. Ciao, Balrog! Corro, 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 corro. Ulla! Ti serve più furia. Haiya. Questa è che creatura particolare, il mangia peccato. Senza fan, le mangi i primi peccati. Restro! Grazie per i 26 mesi. E l'isil del vantaggio. Buono. Balrog evoca inferno. E' proprio il suo mestiere. E vai. Questa mangia peccati speculare. Quindi specula anche sulle cazzate che fai. No, andiamo giù di qua. Scusate per i craccio, ragazzi. Tutto bene adesso? Fate... Fate che... Scassa. Ma chissà come mai, poi. Come vi va questo lunedì? Ma sono rifinito con la camera in alto a destra, è vero? Eh, scusate. Lasciamo così. Ho paura a tabbare. Abbassiamo gli effetti. Merda! Ho finito la furia. Ok. Ok. Grazie Mattia per i 55 mesi. Hola. Ok. No, vabbè. Ci sta che diavolo avere gli effetti alti. Anche perché sono giochi non pensati per... Streammarci sopra. Nessun gioco è pensato per streammarci sopra. Quindi... Aiuto. Lo abbassiamo noi, è buona no. Le. Aspetta che qua c'è la fonte del cazzo. Ma perché non mi prende queste pozze di vita, ragazzi? Perché devo aspettare che si riempia qua prima, eh? Ah, no. Perché sono quelle che devo usare. Perfetto. Mi sono risposto da solo. Ma... Cosa... Lui non le raccoglie comunque? Oh. Non so se riprende Diablo su Xbox. L'avevo abbandonato dopo un paio d'ore. Io l'avevo preso per giocarci con l'Ale. Però mi pareva se fossero tutte le balle, lei. Piove sangue, che bello. Le pozze a terra recuperano solo l'utilizzo. Io poi sto ammazzando, ma in realtà mi potrebbe anche andare dritto, visto che tanto non è che stia ottenendo chissà che cosa da questi buon temponi. Mazza, lui è incazzato. Lui è molto incazzato. Che è? L'anima degli mortacci. Druido! Grazie mille per la sabre calata! Ragazzi, mancano 140 sabre e non succede niente. Però era così per dirlo. Scusatemi. Allora. Allora, a me è piaciuto tantissimo, Marco. Soprattutto la tua trama. Poi, fai tu. Adesso, in questi giorni, registrerò il video dei sub e ve lo faccio avere. Io vi ricordo che il 17 mattina non ci sarà la live perché il 16 parto e vado a Londra. Parto il 16, torno il 17. Quindi 17 mattina, no live. E anche per questo motivo, purtroppo, il video dei sub rallenterà un attimo. Ma sto lavorando e ringrazio anche tantissimo Xirex che in realtà sta facendo lui su un nuovo sito. Un nuovo sito dedicato a tutti quanti ma soprattutto avrà la zona solo per i sub dove vedrete i video e tutte le varie cose, no? So che ultimamente ho avuto un piccolo blocco a livello creativo. Adesso in realtà sto lavorando a cose nuove che non vi voglio ancora raccontare. Però ci sto lavorando per davvero. e ad altri che ancora devono devono venire. Ho il problema non si potranno mai vedere i video dei mesi passati. Quello non ve lo permetterò mai, ragazzi. Per ovvi motivi. Caffè senza zucchero. Ah, grazie Primo per i sedici mesi. Sono troppi! No, ma a questo punto vado via. Cioè, non ha senso. Oh, oh, oh. Qua c'è gente da aiutare. Sono morti lo stesso. Va bene. Sono morto anch'io. Ma dai. Quello è l'obbio motivo che se no uno si è buono una volta e si li vede tutti. Cioè, io voglio dare valore a chi si è buono tutti i mesi non a chi si è buono una volta o una tanto. Ho poca furia. Mi spiace tantissimo. Qua gente incazzata che c'è qui, eh? Non posso ancora farlo. Non ho abbastanza furia. Ma che cazzo sta succedendo qua? Dove mi sono andato ad infilare? Devo attendere. Bevi! No, come sono morto? Vado via. Troppo arrabbiati qua. Cosa c'è qua? Non me lo posso permettere. Non ci devo riflettere. All'idea è la signora del sangue. Però sta venendo picchiata. Voglio riprovarci. Che magari ci sono altri giocatori. Mazza che incazzature qua intorno, eh? Ah. L'ho fatto loro. Bravi. Pacchetto malusencio. Bu, fico. Segui i soldi. No, no, non è un nuovo PG. È lo stesso. Lo sto giocando per portare avanti la trama. Cosa mi devono controllare? A chi mi devo rivolgere qui? Per la... Lurido e avido maiale. Madonna. Senza soldi non se ne fa niente. Se vuoi una lama, devi pagare. Reargar cool. Devo cercare, va. La vedo, quella luce che hai negli occhi. Bolzo. Forgiature degne dei lupi di ferro. Asce, armature, pentole e coperchi. È questo qua. Ah, Rear. Che fortuna, amico mio. L'hai trovato. Spero che non ti mandi la calzolaia. Ha un cuore d'oro. La calzolaia. Una volta le ho sistemato lo stipite della porta e ora mi manda qualunque disgraziato in cerca di un carpentiere. Diciamo che non è esattamente... Sono qui per Neirel. Ma perché io sono diventato così? Un amico di Lorat, dunque. Mi si è rotta la voce, aiuto. Prego. Entra nel mio laboratorio. Certe cose è meglio discuterle comodamente in privato. Ma ragazzi, ma ci sono dei drop particolari. Cioè, se regalate le sub, vi regalano roba? Ricevi ricompense acquistando e regalando abbonamenti al canale. Ah, fico. Se vi interessa... Lo scopriamo adesso, purtroppo. Fai, abbiamo un ospite. È Nick Valentine, il doppiatore del carpentiere. Martello. Martello. Lei è mia figlia, Fa'ira. Qui possiamo parlare liberamente, giusto? Se ho capito bene, sai qualcosa su Neirel? Sì, il nostro amico Lorat era sulle sue tracce, ma se n'è andato. Non ha detto dove o perché, però ho visto lei. È passata di qui qualche settimana fa. Sai dirmi che aspetto aveva? Non serve tutta questa cautela. So cosa si porta dietro e ho visto il prezzo che sta pagando. L'ultima volta che l'ho vista, cercava un passaggio per attraversare il fiume verso Naantu. Cosa? E l'hai lasciato andare da sola? Non hai provato ad aiutarla. Ma c'ha una figlia, lui, vedi? Ti è saltato in mente. Potresti prendermi gli scalpelli, tesoro? Sì, papà. Fa'ira, è una trovatella. Le circostanze l'hanno portata da me. Mi sono assunto la responsabilità del suo bene e di quello del borgo. Proprio come tu, Lorat e Neirel, avete scelto di sorreggere il fardello della creazione. Eh, c'ha ragione. Non lo cambierei per nulla al mondo. Tu lo faresti? Suppongo ti no. Suppongo di no. Ti preoccupi troppo, amico mio. Ma è un bene. Se dovesse servirti qualcosa mentre sei a Giacul, io sarò al tuo fianco. Sono tornati. Resta qui, Fai. Se dovessi trovarti in pericolo... Vado al rifugio. Brava. Ma lui è un amore. Ma infatti ha fatto bene. No. È stato il mio personaggio che è strozzo che ha detto Ma perché non l'hai lasciato adesso? Ma ti pare? Ma c'ha altro da fare. Che devo fare a venire fino a qui? Ciao. Ci penso io. Easy. Madonna. E' estremamente facile rispetto a un attimo fa. Mi serve più furia. Non ho abbastanza furia. Carro di cadaveri corrotti. Spaccaglielo. Non so cos'è ma spacca. Combattivo proprio come aveva detto l'Orat. Ma non è ancora finita. Forza. Ok. Aspetta che c'è un livellino da spararmi nel culo. Senza il build giusto soffri. Sì ma me la stavo anche giocando proprio male. Melma e ossa. Ah no. Scusa. Non lo facciamo. L'infezione si è diffusa da Nantu. Possiamo solo rallentarli. Nantu. E' dove hai detto che è andata Neirel. Devo trovarla. Lo so. Te lo prometto. Te lo prometto. Stanno facendo una gara a chi pare la più profondo. Tornate bene negli inferi. Diglielo. Basta. E' ora di finirla con sta gente che esce dagli inferi. Non risparmiano neanche l'erba. Eh. Che senso. E se la fumano tutta. Ah ah. Perché sono dei drogati. Sono tutti dei Batman. Oh Batman. Oh. Bongo. Decine di vite. Diresti lo stesso dal loro punto di vista? Lo Stato non fa mai niente. Mai. Mai. Questi infernali clandestini. E' ora di finirla. Dov'è il buco del culo? Eccolo qua. Andate qui. Aspettate. E poi uno non è neanche la forza, vedi, di combattere. Aiutateli a casa loro. Allora, non so se lo faccio tutti gli scene live. Perché non mi ricordo. Avevo un'altra idea di un'altra roba da fare. Non mi ricordo più. So sincero. Non mi ricordo più che cazzo volevo fare. Quindi vedo. Perché già ancora abbiamo giocato tutto in live. No, no, ragazzi, ve lo dico io qual è il problema del protagonista. Eliminiamola e fermiamola e fermiamone la diffusione. Si sente che la voce ogni tanto è strana. Quattro ore, ma va là? Allora, quasi quasi. Vuol dire che lo giocheremo domani. Eh, perché alla fine non è la trama che conta purtroppo, ma è il contenuto aggiuntivo. Quindi non solo trama, ma tutto il resto che c'è dietro. Cioè, lo capisco anche sotto questo punto che ho visto il gioco. Ho finito la furia. No, no, ma anche io lo gioco per la trama. Però il DLC aggiunge un botto di contenuto che... Se tu giochi solo la trama è un po' sprecato, ecco, purtroppo. Sono dei coglioni questi stronti, voglio andare a spaccare tutto. No, no, abbastanza furia. Che peccato. Oh, 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 sto morendo, male. Devo attendere. Eh, attendiamo. Quindi dici che se lo giochiamo domani mattina lo finiamo prima di pranzo? Non ho abbastanza furia. Facciamo video su GTA da anni solitari. BONG! Prendo per un sì. No, non lo è. Non facciamo GTA da una vita apposta. Ho fatto mille altri video di Natale diversi. Non facciamo più GTA. Marti, grazie per i 54 mesi. Continuano ad arrivare! E ammazziamo, non ti preoccupare. RR! Solo due guardi. A posto. Dove sono le altre? Eh, mangiate saranno. Non si fermeranno. Ogni uccisione ne causa altre due. Siamo gli unici rimasti. Calma. Finiamo questo combattimento e poi ti pago da bere, d'accordo. Sì, sì, GTA proprio è più peggiorno. Ma è facile. Ne ho fatti tanti altri video di Natale. Guardatevi quelli. La gente guarda solo GTA. Che dobbiamo fare? Eh, ho capito che gioco sopra sta la voce. Mannaggia. Adesso cerco di abbassare. E' esploso tutto. Allora. Ok, speriamo vada bene adesso. Adesso sembra bassissimo. Era molto bello quello dell'anno scorso. E' quello che è andato peggio purtroppo. Non posso ancora farlo. Scusate. Meglio? Calma. Bestia. Un cacodemone. Dai, eh. La manifestazione è ripugnante. Vabbè, ma che nome è? Scusa. È il cognome? Devo attendere. Non è vero. E vai. Vagabondo, che sogno. Eh, qua me le dovrei guardare con tutta la calma del mondo. Eh, vedi, ho già trovato di meglio qui. E, ovunque. È il condimento. Oh. Chi è? Gigi, grazie per 56 mesi T'ho finito anche Attività con i nomi adesso ti scrivono Palle Drop Ready mi sembra migliorato Ma in realtà anche nel gioco base Non ci andava bene Non c'è più Non dimenticheremo Mai La situazione è peggio di quanto pensassi I vacui sono più forti e numerosi che mai Ho promesso che ti avrei portato da Neyrel E intendo mantenere la promessa Ma se i vacui dovessero riattaccare Jekyll Se fa ira Capisco Vai Pensa a tua figlia Sentite che c'è un po' di Ci rivedremo lungo la strada Di rumore nella voce Lo giuro Final Fantasy 2 non l'abbiamo finito Semplicemente perché ho dovuto fare mille altre cose Ragazzi E perché mi stava facendo anche sboccare Quindi adesso vediamo Se domani Finiamo questo Poi finiamo anche Silent Hill Non sarebbe male Magari domani mattina iniziamo questo Cioè Portiamo avanti questo fino a mezzogiorno Mezzogiorno Silent Hill Ah guarda il morto Mercoledì Sempre Silent Hill E poi buonanotte al secchio È quello del trailer Sì Del finale Dell'altro Non so se questo lo continuiamo Sta andando veramente male Cazzo Hai fatto grandi cose Agli occhi della cattedrale Ah fuma lui Capisco perché Io ho paura a farvi vedere adesso Che crasha tutto di nuovo Allora Sei Sono l'uomo che ti ha salvato la vita O Eru Se preferisci Eru Grazie Ma Perché Perché salvarmi Ok C'era l'uomo Super cattivo Che Non potevo lasciarti Amarci Quello che ha dato fuoco all'altro Che arriva Dov'è la ragazza Dov'è Non te lo dico Non te lo dico E ha buttato a terra Il padre della bambinetta Dovrebbe essere qui Con un Prigioniero Un prigioniero Pericoloso Devo assicurarmi Che stia bene E poi il tipo Ci ha infilzato nella schiena E ci ha buttato in acqua Eravamo morti Ma lui ci ha salvato Allora sarà meglio trovarla Non ho discord aperto Questa è Naanto Diamo aiuto a chiunque ne abbia bisogno A meno che non rifiuti Bene Allora setacciamo il fiume Deve esserci qualche traccia della tua amica Più avanti c'è qualcuno E chi c'è Più avanti dove Aspetta che sono salito di bene Oh Eh sono morto Stavo guardando Filmero Ammazza Sono Incazzati questi Devo stare attento Quanto è grosso lui E vabbè Highlander dei miei coglioni Non posso ancora farlo Ah eccolo Sapevo che quelli Non potevano ucciderti E' un tuo amico E' un tuo amico Durante un combattimento Mortale Roba da pagare Dai commercialista Non ne posso più Odio il lunedì Non uso mai la carica Dovrei smettere di usarla Dovrei toglierla Eh se che è male Ok Oh merda Era venuto per curarmi Non pensavo ci fossero le bisce Vabbè Grazie Sono veramente incazzati Con la vita Lor Ho solo perso un arto Ma tu sei stato Travolto e annegato Come hai fatto A sopravvivere E' il signore qua Non ce l'avrebbe fatta Senza di me Ma tiratela di meno No Mi ha aiutato Eru Forse potrebbe guarire Anche te Non credo Nessuna cura potrà ridarmi il braccio Ma Il rum Allevierà le fitte Temo che servirà qualcosa di più Di una bevuta Per alleviare il dolore Di quella ferita Hai ragione Meglio trovare un posto L'ha presa molto bene Ha perso solo un arto È lunedì per tutto Conosco un posto a sud-est E va bene Stanate lì Stanate lì La cattedrale della luce ti dà la caccia La cattedrale della luce ti dà la caccia Cosa? Amore a prima vista È vero Ci sta provando Non lo so È stata un'affermazione un po' strana La sua Ah per quello Mi piacevi Perché ti danno la caccia Hai capito? Brigante Sei proprio un birbaciuone Chiuso Eh Ma certo che hanno chiuso tutto Quindi? Bussiamo? Vecchi amici Amici fin troppo scaltri Nelle rovine imperiali come queste C'era sempre qualche galleria segreta Deve esserci un'altra strada Sori Stai veramente scrivendo cose a caso? Io non Non vi preoccupate Ce la faccio Forza Qui sotto Barbarie villosi Sono sempre stati il mio tipo Vabbè ragazzi Lasciatemi scendere Dai Sì Ma non abbassare la guardia Non possiamo sapere cosa vive lì dentro Mazza come si è illuminata la porta Permisso Porca Guarda cosa vive qui dentro Vive Pagheranno l'affitto Ho finito la furia Boom Ok Ho finito la furia Oh Brischiatola eh Mi preoccupo Suri Suri veramente Puoi tranquillamente andare dove vuoi Basta che smetti di scrivere puttanate in chat Grazie Non ne ho idea Suri Basta che Veramente Basta Grazie Ok Ok Guarda gente che c'è Il fiore è veramente incazzato vero? Che bello fare questa trottolina E vai Curo Prendo questo E buonanotte Credo che delle volte Le persone lo facciano apposta Giusto per innervosirmi Non ho voglia di essere innervosito Quindi Buonanotte Prosciutto e melone Molto buoni Molto buoni Però Sono un ottimo antipasto Ma non fungono da piatto principale Per quanto mi riguarda Sempre per la teoria che un piatto caldo Ci vuole sempre Per definire un passo un passo Devo attendere Combatti bene Non avevi detto di essere un guaritore Ah ok Pensavo lo dicessi a me Prima di tutto Non ho pranzato Mangio dopo Devo fare di nudo Non lo voglio E richiedono sempre Così tanta violenza Solo quando c'è qualcosa Che vale la pena proteggere Beh Allora Io la beta Non l'ho giocato Come al solito Vilit Ti posso dire Che il gioco è completamente cambiato Come mi scrivevano in chat A me è piaciuto comunque Anche l'originale Quindi Ma è bello Allora Se ti piace Il genere È molto bello È chiaro che Se Se non ti piace Fai fatica Avrei preferito Una trama un po' più incisiva Che purtroppo Si perde Ad una certa Viene un po' lasciata Secondo me Nel finale Però A me non è dispiaciuto Comunque La trama Intendo Poi il gioco Mi è piaciuto Basta Ok Questo di tra poco Chiudo E mangio Volevo arrivare A un punto di controllo Un save È che mi è crashato 50 volte Porca miseria Adesso c'ho tutto il culetto stretto Che ho paura di crashare Un'altra volta Ma non è piatto La vista Devo ricordarmi Dall'abilità Della corsa Questo Ah ok Ecco noi Che valura Poi vorrei provare Anche Altre Classi Magari Me lo riprendo Su Su L'Obs Che succede Solo che Io ho Il DLC Per PC Posso giocarci Anche su Xbox Senza ricomprarlo Perché non so Se il DLC Poi dopo Si lega all'account O comunque Va comprato Anche per la piattaforma Mazza che bordello qua Dovrebbe essere Legato all'account Ve lo farò sapere Allora Purtroppo mi sa che sarà una one shot Questo di diavolo Perché mi sta facendo crashare OBS Non voglio passare le ore Poi dopo A riavviare tutto Prima mi è arrivato pure il PC Adesso vedo Perché a quanto pare C'è un fix Peccato perché Durava poco L'avrei anche finito Volentieri Eh ma io non lo so Come funziona Purtroppo mi sa Purtroppo mi sa Ma scusa Ma scusa ma C'erano già passati di qua Pensa a te Comunque C'è sta gente Che si sta facendo Grandissimi Cazzi suono A casa sua Noi siamo arrivati E abbiamo iniziato a minarli Per forza C'ha ragione Poi i demoni A ammazzare gli umani Guarda qua che lavori Cioè siamo letteralmente Entrati in casa loro E li stiamo massacrando La vita Ok Perfetto Boss Uh che Dolores Che è andato via Veramente Facile Olli Il mio carico eccessivo Merda Si poteva mandare le ro... Eh però tanto Non ho spazio Quindi che dobbiamo fare Si potevano mandare le cose al forziere Ok Mi piace di più il mio però Il cane? Non credo sai Vabbè tanto Quella roba lì non mi interessava Che devo fare? Cerca un passaggio per l'antro Con i tuoi alleati Wezi Avete visto un passaggio? Qua No? Hanno lasciato la fune C'è più muschio di quanto ricordassi Eh Una volta mi sono riparato qui da un monsone Anche io Più di una volta Va benissimo per ciò che ho in mente Boh Conversazione un po' Surreale Tommy Grazie per i 32 mesi Ragazzi Bello Peccato che mi abbia fatto Crasciare la live 30 volte Veramente Veramente un gran peccato Si sono tornati in una stanza Secondo me Ce n'è Dai Vi mando da quello là Ragazzi Buon pomeriggio Buon pomeriggio Bello Emilia Buon pomeriggio Per mi abbia fatto